Torna alla Cronaca Academy. Dopo il successo della prima edizione, con oltre 200 richieste per 30 posti disponibili, abbiamo deciso di rifarlo e di farlo in grande. Due workshop di 6 giorni, il primo dal 4 al 9 settembre e il secondo dall'11 al 16 settembre. Entrambi si svolgeranno a Milano, in Viale Liguria, nella sede di One Day. L'Academy è rivolta a tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. Qui formeremo una nuova generazione di professionisti in grado di accompagnare l'informazione dai media tradizionali verso i social network. Vi spiegheremo come si fa il giornalista nel 2023, come si costruisce un brand, come si sviluppano i rapporti commerciali e come nasce un video. Vi presenteremo i migliori professionisti del settore. E alla fine dei due workshop, 4 persone entreranno a lavorare in Cronache con un contratto di 6 mesi. Per tutte le informazioni, visitate il sito www.cronacheacademy.it Cronachiste e cronachisti, buonasera, ben ritrovati. Io sono Fernando Siani e come ogni lunedì torna alla Fontana di Trevi, pronti per farvi compagnia ancora per qualche settimana insieme con Riccardo Trevisani. C'è Riccardo Trevisani. Cronachiste e cronachisti, ben ritrovati. Non so un po' più o meno di questa frase. Come stai Ricchi? Ma accaldato perché qui dentro è come stare, diciamo, in situazioni balneari. Però bene, però bene, dai, bene. Mancano poche settimane e poi tutti in vacanza. E poi tutti in vacanza. Andrà in vacanza anche Giuseppe Pastore. Sì, andremo tutti in vacanza, andrò anch'io in vacanza. Forse anche un rasoio. Forse anche un rasoio per le rasoiate. E poi, non dico che non ce la facciamo più, è stata una stagione molto intensa, forse faticosissima, che si chiude alla grande per il calcio italiano e noi saremo qui fino al 12 giugno. Altre tre puntate. Altre tre puntate. Detto questo presentiamo anche quello che è il miglior coordinatore di piattaforme streaming in Italia, Andrea González, che ha perso anche questa volta pink. Però bene, 21-7, 21-13. Ciao a tutti, devo dire che non ho fatto 21 punti neanche sommando le due partite, ma noi ci stiamo lavorando, la qualità di gioco è aumentata tantissimo, possiamo dirlo. E possiamo dire che Nando Siani ha poi giocato col miglior coordinatore di piattaforme e non l'ha presa mai la boccia. Mai, 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 mai. Facciamo a ridere il commento di Feudo94, nessuna notizia del ping pong, meme di Mazzarri, quindi erano già così da casa. Puntata omologata, puntata ricca, ricca, ricca. Abbiamo anche dei cartoncini qui, che utilizzeremo nel corso della puntata, poi vi spiegheremo qua. Io adesso non so per farmi fresco nel frattempo. Eh, bravo. Ma non ti arriva la recondizione. Non ti arriva la recondizione. È un ventinatore che sta circa la distanza. È un po' lontano. Io ce l'ho dritto, dritto, dritto in faccia. Quasi sfoglia mosaico. Non si muove. Non si muove. E pur si muove. E pur si muove. E pur si muove come la classifica di alcune formazioni. Ah, stai già. Anche mosaico si muove, giusto. Se sta andando bene mosaico. So che c'è stato un bel bagno di folla in... Sì, venerdì pomeriggio. In galleria. In galleria. Nella libreria Rizzoli. Ringrazio tutti, a nome di tutti gli autori e di tutti quelli che ci hanno lavorato a questo bellissimo libro che potete trovare in vendita su tutte le principali piattaforme. Assolutamente. che è sempre la cosa migliore. Da perché chiede Trevi ma giochi con la giacca? Spoiler no. E non andiamo. E non andiamo oltre. Senza giacca direbbe qualcuno. Senza giacca. Sicuramente gioca senza giacca. Vabbè ragazzi, tantissimi temi, tantissimi temi dal Milan che strappa la qualificazione in Champions League, alle dichiarazioni di Allegri che hanno fatto parlare tantissimo. Ne parleremo ovviamente. Ovviamente anche noi. Non ti sono piaciute, Ricchi. No. Secondo me comunque comunica, a livello di conferenze, di dichiarazioni, comunica peggio di come gioca la Juve. Questa è la sintesi. Poi ne parliamo dopo. Poi ne parliamo dopo. Giuseppe ha parlato anche De Laurentiis. Oggi ha parlato Spalletti. È ufficialmente finita. Hanno dato una versione, diciamo, simile. Se ne va da Napoli dopo aver fatto il massimo. Ed è una scelta che se andiamo indietro nel tempo, nelle dirette di di Corona che avevamo anche un po' previsto. Preveduto. Preveduto. Già aprire perché insomma le facce di Spalletti dopo tutte le grandi vittorie del Napoli questa stagione, da quelle in Champions a quelle 5-1 con la Juve, erano tutte molto, non tristi per carità, però erano tutte molto stressate. Cioè lui sentiva, secondo me sente ancora il peso di una stagione storica che però ha subito forse più di altri a livello mentale. Da qui la legittima voglia di staccare per un anno. Un ambiente comunque da tantissimo, ma richiede anche tantissimo. De Laurentiis mi sembra sia stato d'accordo nel concedere l'anno sabbatico e quindi Napoli cerca un oratore. Ci sono già dei nomi che stanno girando da parecchie settimane. Magari ne parliamo più tardi. Sì, dopo ne parleremo. Trevi, però ti chiedo subito magari quale vorresti come nome al posto di Luciano Spalletti. Quale vorrei? È che scelgo io. Mi date questa responsabilità. Se potessi scegliere. De Laurentiis qualche errore nelle dichiarazioni lo fa, ma gli allenatori ne ha sbagliati pochi. Nel senso che uno che ha portato a Napoli Rafa Benitez, ha portato Ancelotti, ha portato Gattuso, ha preso Sarri scommettendo su uno che era stato cacciato tutta la carriera tranne che dall'Empoli e ha portato Spalletti e ci ha rivinto il campionato dopo 33 anni. Quindi c'è poco da insegnare a De Laurentiis dal punto di vista della scelta degli allenatori. Quello che farei io, ma è il mio pensiero, è prendere un allenatore che tocchi poco. Non prendere uno che vada a rivoluzionare quello che c'è, perché c'è tantissimo materiale già nel Napoli e un aggiustatore secondo me è meglio di un innovatore in questa situazione. Però non pensi sia difficile arrivare... magari ecco ci sono tanti allenatori che... Mionete Benitez, che è uno molto, diciamo, per dire, ce ne sono tanti. Però un gruppo così, dopo uno come Spalletti che insomma è anche un po' entrato nel cuore dei giocatori, è comunque difficile per tutti sostituire Spalletti tenendo questa rosa. Anche perché loro sanno quanto Spalletti gli ha cambiato la vita a tutti i giocatori. Chi ha facciato 10 anni ha fatti 25, a chi era forte è diventato fortissimo. Siccome Napoli non è una squadra come ad esempio la Juve dei 9 Scudetti che un po' si gestiva da sola a un certo punto, aveva degli equilibri interni molto forti, a prescindere da chi l'allenasse. C'è bisogno forse di un allenatore ugualmente di polso, però chiaramente non puoi stravolgere, come hai detto tu, quello che ha fatto Spalletti. Quello è fatto, cioè se il polso coincide con il voler cambiare la meccanica e la tattica di una squadra che funziona benissimo, io non lo farei. Cioè Luis Enrique è quel tipo di allenatore? Secondo me no. Luis Enrique è uno che vuole mettere male, uno che vuole fare direttatrice, uno che è rivoluzionario dalla nascita. Un collega, un collega. Caldissimo caratterialmente. Sì, è un collega, bravo. Però è uno che si muove nel solco del miglioramento tecnico dei giocatori. Assolutamente. E quindi magari ci sta. Però la mia idea di allenatore che viene, gestisce, si fa volere bene è Ranieri, non è Luis Enrique. Ci siamo? Come idea di personaggi. È più Ancelotti, è più quel genere lì, più che il grande Lucio che sostituirebbe Lucio che sarebbe una storia fantastica. Lucio con l'H che sostituisce Lucio con l'I sarebbe molto divertente. Sì, sembra Corsa 2. Qui dove il mare è luce. Ecco. Ah, ispira forte il vento, l'usore, l'umare. Eh, parleremo anche di questo, parleremo anche di questo perché si è salvato il Lecce, però non dico altro. Giustamente. Non dico altro perché so che è un oggetto di pastorale. Vabbè, è più tardi, è più tardi. Però si è praticamente salvato il Lecce. Giustamente, ne ho parlato tante volte in questi mesi, la squadra che ha avuto una brutta flessione da marzo in poi, però per quello che ho fatto vedere fino a febbraio ha merito ampiamente, soprattutto visto che non la merita non ha fatto, secondo me, nel Verona e nel Spezia, una delle due si salverà. Vedremo chi... Per te la meritava la Cremonese? Ma, sai, avesse fatto quei 6-7 punti in più all'andata, adesso era forse davanti, anzi sicuramente davanti. Si correggono dalla Puglia, l'Ussule, non l'Ussole. L'Ussule, addirittura. Ah, ci correggono, chiediamo scusa. Però ecco... Non avessimo un pugliese al tavolo. Esatto, loro sai che si ritengono non pugliesi. Ah, i Salentini, è vero, è vero. Salento is not Puglia. E poi c'è stata questa vittoria dell'Inter sull'Atalanta, è arrivata anche una zanzara. La zanzara, c'è questa incursione, è brutta da me. Incursione tra podcast che si incrociano, la zanzara che vuole per forza far parte della Fontana di Trevi. E dicevo, l'Inter batte l'Atalanta, in una, secondo me, le migliori partite dell'anno, giocata dalla squadra di Simone Inzaghi. E ripropone l'annoso dilemma della Fontana di Trevi. Lukaku versus Dzeko. L'Ussule, l'Umare e Lukaku. No, no, no. Hai sentito? L'Ussule, l'Umare e Lukaku. L'ha segnato a Lecce la prima giornata, tra l'altro. E poi l'ha segnato. E poi l'ha fatto per otto mesi. E poi l'ha fatto per otto mesi. Però ancora stiamo a parlare, vai, andiamo avanti. Però in generale, dopo parleremo, affronteremo più in profondità, argomento già con Lukaku, perché spoiler, i cartoncini sono lì proprio per questo. L'impressione travi che l'Inter arrivi a giocarsi la finale di Champions League nella miglior maniera possibile. Joe Fraps dice che tutti vogliono mettere mano ed è giusto, il gestore a Napoli non serve a niente. Joe Fraps, riscrivici anche l'anno prossimo a fine campionato, vediamo com'è andata. Non ti scordare di noi. Non ti scordare di noi. Ma guarda e passa. Ti dicevo dell'Inter, l'impressione è che l'Inter arrivi comunque nella miglior condizione possibile a questa finale. Sì, e la miglior condizione possibile l'ha trovata non cambiandone otto per volta, ma cambiandone due, tre per volta. Giusto. Pensa, ma è incredibile. Puntato omologato anche questo. Quindi si riesce a mettere in condizione delle squadre cambiando due, tre giocatori e non cambiandone otto. Ma io non me lo sarei mai aspettato. Quindi giochi la finale di Coppa Italia, mercoledì, torni alle cinque di mattina indietro. Il sabato sera resta in campo contro una squadra che pressa tutto campo e fai la miglior partita dell'anno. Cambiando solo due, tre giocatori. Questa è la differenza. Le squadre devono cambiare due, tre giocatori. E poi giocano molto bene a pallone. Chi ne cambia otto o dieci fa... Male. Male. Un altro verbo. Abbiamo rischiato, abbiamo rischiato, per fortuna. Per fortuna Trevi si è gestito. E poi, Giuse, mercoledì, e poi ci fiondiamo nel core business della trasmissione. Mercoledì c'è la finale Europa League. C'è una finale, intanto, importantissima per il calcio italiano che per la prima volta potrebbe portare cinque squadre in Champions e quindi facciamo tutto il tipo per la Roma perché vogliamo avere tante cose di cui parlare in Champions League. C'è anche, insomma, un tema, intanto qui grande hilarità. Sì, per i commenti, per alcuni commenti. V'italiano 999, un genio. Per alcuni commenti. No, la Roma che, insomma, è attesa già da settimana a questa partita a cui si sta approcciando, mollando il campionato. Penso che il campionato della Roma sia finito sul gol di Salem Ekers in Roma-Milan. Da allora non ha più vinto una partita e ha di fatto riservato le poche energie rimaste, e la riservate bene, all'Europa League, che chiaramente la stagione gira su questa partita di Budapest che, secondo me, sarà decisa davvero da due, tre azioni in tutto. E quindi Roma che dovrà essere molto attenta sugli episodi, gara super spezzettata, come al solito. Però ricordiamo che nelle cinque finali precedenti Murigno è sempre stato di vantaggio 1-0. Perché il Siviglia però non ha mai perso nemmeno una in sei partite di Europa League. Ma io tra Mendilibare e Murigno penso che parta da una finale avvantaggiato Murigno. Qualcun altro che non ha neanche la squadra meno forte. Credo che, insomma, Roma parta almeno un 10% avanti, un 64%. Hanno perso entrambe 2-1 andando in vantaggio in questo weekend. C'erano partite bene, Siviglia e Roma, e poi si sono un po'... Una si è scattata contro Madlieno. Chiaramente, Madlini e Fiorentina, c'è un peso diverso. Però, tuttavia, insomma, mi sembra un approccio simile alla finale. Che anche per il Siviglia vale un posto in Europa, visto che non si è qualificato al campionato. Quindi, insomma, è chiaro che è una finale con tantissimo peso, anche sul 2023-2024. Rispondiamo a Filippo dicendo che non c'è alcuna differenza. E sulla questione rimonta del Siviglia, io dico questo però. Cioè, il Siviglia e la Roma hanno più o meno lo stesso obiettivo in campionato. Nel senso, il Siviglia è andato talmente male che faceva fatica a ritornare su. La Roma si era talmente disintensata del campionato e faceva fatica a fare qualsiasi cosa. Detto questo, anche per i risultati delle altre, se la Roma con Salonitana e Fiorentina avesse fatto dei punti, sarebbe ritornata in una condizione che, perdendo la piazza dell'Europa League, sarebbe stata un po' più comoda di quanto non si trovava. Anche secondo me è stata un'occasione persa gigantesca questa per la Roma. Il discorso dell'Inter per me. Cioè, il fatto di andare bene in una Coppa non ti concede e non ti permette di dover abbandonare il resto. E l'Inter ha avuto la capacità, anche per l'organico che ha, di riacchiapparlo. Il campionato, perché c'è toluta la sesta. E c'era pure chi diceva che sarebbe finita la sesta. Anche nel mondo del calcio lo urlava negli spogliatoi. Questo, non troppo elegantemente, però poi invece pensa com'è la vita. Sesta, è finita la squadra. La penalizzazione, c'è finita la squadra di chi lo diceva. Ma la cosa che dico è, se tu fai bene la Coppa, puoi anche far male il campionato. Ma fai male il campionato cercando di farlo bene, non far male il campionato dichiarando di farlo male. O facendo il super turnover o facendo altro. Secondo me molti giocatori della Roma, penso a quelli che non hanno giocato a Firenze, Pellegrini, Matic, nemmeno entrato, stesso Dybala che non si sa bene cosa abbia, adesso pare che stia bene. La Roma sta facendo un discorso molto chiaro. Non vi faccio giocare perché siete troppo importanti. E quindi mando un messaggio anche a quelli che vanno in campo. Queste partite qui non contano niente. È cinica come cosa, naturalmente lo è. Ci si rimettono tanti punti, ma visto che la Roma viaggiava un infortunio a partito da aprile, l'impegno in più magari nella squadra che andava a giocare per tutta la partita salernitana, Monza, Bologna, Fiorentina, poteva rischiare di infortunare di nuovo Dybala o Pellegrini. E questo la Roma in chiave Budapest non se l'è voluto permettere. Assolutamente, però alcuni giocatori sono come quando tu fai il turnover con un 36enne. Io lo posso anche capire quando fai il turnover Leao che mi cadono le braccia per non dire altro. Diciamo a me MC Manuel il 23 che verrà fatta non solo l'imitazione di Sian, ma verrà anche picchiato selvaggiamente per l'imitazione dell'altro. In realtà era un'imitazione fatta durante il quiz, se vi ricordate. Banalissima! L'ho vista! L'ho vista! Ti ho visto, Nandosia, ti ho visto! D'altro ne ho tolto l'orologio quindi vuoi menarmi davvero, mi preoccupo a questo punto. Aspetta, tolto l'orologio. Gli occhiali, allora è finita. Dai, possiamo partire, Andre? Ci siamo? Assolutamente, sigla e poi prima sentenza. Ok. Toc, toc, toc che sentite sulla sentenza sul martellino che batte. Alla Juve non si può vincere, è stato detto. E se c'è una squadra che nella storia ha vinto in Italia è la Juve. Alla Juve non solo si può vincere, ma si deve vincere. E questa cosa l'ha detta a luglio, quando è tornato, due anni fa, Massimiliano Allegri. Alla Juve bisogna vincere, e conta solo vincere, e bisogna vincere possibilmente lo scudetto. E lo ha ridetto anche all'inizio di questa stagione. Perché parliamo di questo? Perché ieri, secondo me, all'interno di una stagione in cui ha sbagliato partite, ma soprattutto la dichiarazione di Allegri è di una gravità incredibile. Intanto perché manca di rispetto alla storia della Juventus e alla Juventus. Alla Juventus si vince sempre, si vince spesso, si vince con frequenza. La Juve può e deve vincere. Ma soprattutto manca di rispetto a chi guarda le partite e chi ha seguito la Juve negli ultimi anni. La Juve ha vinto lo scudetto con Sarri facendo 83 punti. Non l'ha vinto con Pirlo, ma ha fatto comunque 78 punti, che sono molti di più di quelli che ha fatto la Juve in questo campionato. E lo stesso Pirlo, mai allenato in carriera, preso dall'Under 23 per fare la prima squadra, improvvisamente ha vinto una Coppa Italia e ha vinto una Supercoppa. Due trofei in un anno. È stato mandato via come se fosse l'origine di tutti i mali della Juve, Pirlo. Ecco, forse non era Pirlo l'origine di tutti i mali della Juve, ce ne erano altre problematiche tra giocatori e società, e lo stiamo vedendo in questi anni successivi, ma soprattutto non si può dire che alla Juventus non si può vincere, perché la Juventus ha un monte in gaggi fenomenale e che se ne dica, è vero che ha perso alcuni giocatori di bala su tutti, ma ne sono arrivati altri, non sono solo i giovani ad essere stati integrati, sono arrivati Pogba, acquisto sbagliato, Paredes, scelta sbagliata dell'allenatore, è arrivato Di Maria, è arrivato Bremer, quindi chi è andato via è stato comunque sostituito. Bene o male, lo possiamo discutere, ma una cosa è sicura, la Juventus non ha giocato bene, la Juventus ha fatto una stagione, la seconda consecutiva, senza vincere un trofeo. E questa cosa non dipende dalla Juventus, ma da chi la Juventus ha allenata e chi nella Juventus ha giocato. Cioè non è una cosa astratta, alla Juve non si può vincere, alla Juve si può vincere, alla Juve si dovrebbe vincere e alla Juve Allegri non ha fatto un lavoro per vincere. Proprio è mancata la mano dell'allenatore, sono mancate le idee di gioco, è mancato di tutto alla Juve quest'anno. E dare la colpa alla società Juve, o comunque a casa Juve, che non si possa vincere, secondo me è sbagliato. Poi sulla scelta di due anni fa di non andare all'Inter, non andare al Real Madrid, andare alla Juventus, mi limito a dire che la Juventus ha offerto quattro anni di contratto da Allegri. L'Inter due, il Real Madrid due, quindi c'è il doppio degli anni, il doppio dei soldi, è un club che già conosceva e che voleva ritornare a vincere. Mentre l'Inter aveva venduto Hakimi, aveva venduto Lukaku, aveva perso Eriksen, quindi non era in crescita l'Inter, era in crescita la Juve, che infatti da lì poi ha comprato Vlaovic e compagnia cantante, spendendo molti soldi, quindi non è vero niente. Alla Juventus si può vincere, ma lo si fa lavorando meglio dalla panchina, lavorando meglio in campo, lavorando meglio in società. Possiamo dire che nel calcio 2023 un quadriennale a qualunque allenatore è una follia, cioè nemmeno Guardiola, forse Guardiola, forse i club della situazione, dopo che hanno fatto tanto, senza poi clausole sui risultati, perché insomma arrivi settimo, quadriennale santo. Peraltro, mi sembra che il peccato, uno dei tanti peccatori generali di questo crollo della Juventus, non è un crollo, poi alla fine uno dice, ma se i giorni punti siamo terzi, è un crollo di sistema, è un crollo tecnico, economico, dirigenziale, progettuale, nasca dal fatto di una serie di operazioni sbagliatissime da due o tre anni fa e che quindi chiamano in causa la vecchia società, a cominciare dai quattro anni dell'Egris, che è una cosa che davvero non... Dopo che l'hai esonerato, peraltro, nel 2018, 19 prende un allenatore che hai esonerato, per prendere un altro che hai esonerato, sono scelte ripetutamente sbagliate, il mercato di quest'estate ha vallato in parte anche da Allegri, è stato molto infelice, Pogba, Di Maria, Lauvic l'anno scorso, che è un ottimo giocatore, ma evidentemente non ha trovato la sintonia con l'allenatore, sono tante cause concatenate, aggiungo al tuo discorso un dato anche piuttosto come dire di granito nella storia della Juventus, l'ultimo allenatore della Juventus che non ha vinto nessun trofeo per due anni di fila e ha avuto una terza stagione, risale al 1937, ed era Virginio Rosetta, andiamo di calcio di cent'anni fa, poi non è mai capitato che l'allenatore che sia stato per due anni senza trofei abbia avuto una terza occasione, Ranieri, o addirittura Rino Marchesi anni 80, Ancelotti aveva vinto l'Inter Toto, ecco, cioè questa cosa, diciamo, è stata mandata via anche lui comunque. Però era un anno e mezzo, era arrivato in corsa, comunque ha sfiorato lo scudetto molto più lui di quanto non l'abbia fatto Allegri. Sì, peraltro è arrivato a un punto dallo scudetto, esatto. Quindi ecco, non ha statistica, non ha precedenti statistiche di un'eventuale terzona di Allegri, ce ne ha economici, perché Allegri ha un ricco contratto, che credo sia la causa, la cosa che lo tiene, la cosa scelta di cuore, la cosa che lo tiene, come dire, ancorato, incatenato alla macchina di Aioventus, e questo lo sa tutti, lo sa la società che ha ereditato questa situazione contrattuale pesantissima, lo sa anche Allegri. Non è che Allegri abbia preso una pistola e detto, minacciando qualcuno, fatemi una tana di contratto. Gli sono stati proposti da una società che non ha azzeccato una scelta negli ultimi anni, soprattutto non ha azzeccato questa. Però Riky, quattro anni che sono stati proposti da una società che adesso non c'è più, giusto? Se non mi sguardo. Però i soldi vanno a pesare. Lo so, però ecco, magari mettendomi nella, provando ad immedesimarmi alla testa di Allegri, non nel suo conto corrente, che per carità è già abbastanza florido, mi sembra di aver capito, però in questo momento c'è una nuova società che vuole palesemente ricostruire, ripartire, anche rifare un po' l'immagine. Di solito quando c'è un cambio di società, poi l'allenatore che c'è prima va quasi sempre via. È successo a volte il contrario, però poi se ne sono sempre pentiti. Viene in mente Montella, ad esempio, con il Milan, con il cambio di proprietà. Beh, è un contratto molto più leggero. Lo so, però di solito non è mai una scelta buona questa. Cioè, restare insieme per i soldi secondo me è come una coppia che resta insieme per altri motivi quando non c'è più l'amore. C'è Stefano Figara che dice parlate anche del calcio di cent'anni fa, ma tanto. Ebbè, pastore, sa lo stesso. Letteralmente 90. C'è una cosa da dire che per soldi non è mai una buona idea. Io aggiungo una cosa importante. La società, ho citato Montella e il Milan dei cinesi, lì c'era comunque per quanto non fosse impeccabile una nuova dirigenza sportiva che sceglieva e comunque ragionava. In questo caso al 29 maggio quasi 30 la Juventus non ha ancora un direttore sportivo perché giuntoli ancora in fattore a Napoli non ha un dirigente tecnico cioè a parlare nei tre partiti ci va calvo con tutto il rispetto non si è mai occupato direttamente di calcio e quindi Allegri è totalmente in questo momento il padrone tecnico della Juventus al 30 maggio 2023. Prima di discutere il successore di Allegri bisognerebbe nominare un direttore sportivo un marotta della situazione che tirasse le fila come accadde all'epoca di Conte pochi ricordano che il primo anno di Marotta e Parati ci arriva del Neri quindi fanno anche le recente sbagliate quindi insomma non è che equivale a azzeccarla però è comunque una nuova Juve la prima Juve di Andrea Agnelli che riparti dai dirigenti non dall'allenatore il dirigente poi si occupa di un allenatore e il mercato e così via qui siamo ancora a un punto precedente all'allenatore se la Juve non sblocca la questione è giunto gli occhi per lui visto che siamo ancora al 30 maggio e dell'Aurentis fa ostruzionismo e non ha nemmeno tutti i torti perché ha un contratto che lo lega al Napoli è difficile questa cosa qui per la Juve che non avrà probabilmente le coppe da quello che è uscito anche stasera si va per il patteggiamento e quindi l'UEFA dovrebbe squalificare la Juve e quindi fai un mercato diverso un allenatore che magari non si sa e questo la Juve è gravemente in ritardo su questo Allegri o non Allegri Allegri è un problema secondo me nemmeno per la principale della Juve adesso si chiaramente non c'è in questo momento anche chi può nominare un successore di Allegri giustamente non lo sottolinei che manca non lo so non lo farai scegliere a calvo manca una figura di potere in questo momento in maniera abbastanza palese c'è da dire che le dichiarazioni di ieri secondo me tradiscono anche forse adesso una mancanza di lucidità non è così cioè oggettivamente una roba del genere la Juve non credo si possa dire no? vale tutto in questo momento cioè l'ha detto ieri la stagione è finita a Siviglia il gioco che succede da adesso è ricreazione però in realtà pure lì l'allenatore è anche un motivatore infatti sono allenatori che danno un gioco allenatori che danno motivazioni qui sono mancate entrambe le cose perché la Juventus che viene a sapere che i punti sono 10 e non 15 vuol dire che può con tre vittorie arrivare tra le prime quattro e questa cosa sarebbe dovuta essere un jump non una cosa che ti manda giù e la Juventus ha perso 4 quasi a zero a Empoli ed è una cosa secondo me che fa parte delle cose incredibili di questa stagione mi spiego prendi 15 punti dovresti essere morto psicologicamente invece la Juventus ha una settimana di stranita post stranita del Napoli del 5 a 1 pareggia con l'Atalanta eccetera e poi parte una sorta di escalation una rimonta sui nervi e anche apprezzabile secondo me quando gli ridanno i 15 punti perde tre partite di seguito e quando gli ridanno i punti diventano 10 riperde e ricrolla Empoli le cose dovrebbero essere sono me diverse prendi 15 punti ti abbatti te li ridanno per tenere vivo il campionato anche a livello mediale per tenere vivo il campionato per dare l'idea per non disunire perché avevano le coppe ancora da giocare questa cosa è stata diciamo ignorata ma credo che non è che la Juve scopre alle 20 e 15 di Empoli che le tolgono 10 punti a parte che si sapeva che era quel giorno lì che ti aveva rotto i punti perché 20 minuti prima ne hanno detto che era 10 punti in meno però si è detto anche questo questa è la sciocchezza con tutto il rispetto lo sai da anzi dov'è essere 12 tu dici giusto peraltro esatto no e questa cosa la Juve la stagione della Juve è finita quando è uscita la seconda coppa e secondo me il lavoro di Allegri è pessimo in Champions League questo penso non ci sia come dire nessuno lo possa discutere è ingiudicabile il campionato almeno quest'anno nelle due coppe doveva far meglio di come ha fatto con Inter e Siviglia ed è uscito con la coda tra le gambe in entrambe le partite il campionato è l'ultimo è finito il giorno della penalizzazione ma il giorno addirittura del decadimento del CDA quello è proprio il segnale rompete le righe è andata così questa stagione alta precisione che mi piace fare tutti quanti dicono giustamente dalla penalizzazione in avanti la stagione è stata fortemente condizionata ecco col Maccabi ci ha perso prima 3 punti su 18 in Champions League li ha fatti prima una distanza siderale dal Napoli l'ha accumulata prima a Monza ci ha perso prima quindi quando si fa un'analisi l'analisi va fatta in maniera onesta e dire tutta la stagione no metà stagione condizionata e della prima parte la Juventus ha fatto malissimo senza alcuna attenuante se non quella di giocare a pallone in maniera pessima questo è prima non c'erano giustizie sportive e problematiche agosto settembre ottobre e un pezzo di novembre sono lisci e la squadra comunque ha preso quattro col da Benfica ha perso col Maccabi ha ripreso in casa col Benfica non si poteva guardare giocare a calcio comunque a prescindere dalle sentenze questa è un'analisi se no la gente vi racconta delle storie le attenuanti ci stanno i giovani al posto dei campioni che non si poteva fare meglio di così non è vero va bene direi che è una buona buona chiusura di sentenze il quadro è abbastanza chiaro assolutamente sì Consales andiamo avanti Anvedi come parla Nando facciamo Anvedi come parla Nando allora vi racconto un aneddoto personale perché ho intervistato Nanna al termine di Inter Atalanta e faccio la prima domanda in italiano lui risponde in italiano domanda normale risposta normale niente di che la seconda domanda che vi faccio è da dove derivasse la fiducia che Anana ha sempre mostrato nell'Inter anche nei momenti più difficili e mi riferivo soprattutto al fatto che Anana è dalla prima partita col Bayern che dice l'Inter può arrivare a vincere la Champions League e lui a quel punto mi fa adesso però devo rispondere in spagnolo e dice io sono nato e cresciuto in un continente in un paese diverso dal vostro ho sempre vissuto situazioni molto molto complicate e alzarmi ogni giorno per me è un regalo è un dono di Dio ho superato tantissime cose complicate nella mia vita quindi non vedo perché non debba avere fiducia in questa missione che non è nulla rispetto a quelle che ho superato nella mia vita e poi aggiunto non posso promettere che l'Inter vinca la Champions League ma quello che posso promettere è che questa squadra morirà in campo pur di vincerla onestamente quello che mi piace molto di Andreo Nana oltre ad essere secondo me un ottimo portiere è il fatto che dà un senso diverso alle interviste e non è una cosa banale per chi fa il mio lavoro intervistare un giocatore e trovare qualcosa interessante in quello che dice è un comunicatore pazzesco un leader incredibile e io sono molto contento che Trevi possa commentarlo in finale lo ha commentato tante volte nel corso di questa stagione portiere con più clean sheet della Champions League è vero però in generale secondo me quello che trasmette a livello comunicativo a livello umano è difficilissimo da trovare in giro e mi dispiacerebbe molto se dovesse effettivamente andar via il nome più chiacchierato nel mercato in uscita trovare un giocatore di questa caratura a livello di comunicazione a livello di leadership è veramente veramente difficile in Italia ce ne sono pochissimi e se dovesse andar via sarebbe davvero davvero un peccato questa è la mia la mia opinione la penso assolutamente come te e sai perfettamente che per me nella stagione del campionato dell'Inter da 4 e mezzo perché è salito dal 3 di mese fa a un ottimo 4 e mezzo c'è anche nelle varie motivazioni il fatto che Onana abbia cominciato a giocare l'11 di ottobre in questa squadra al di là della Champions League dove infatti l'Inter è in finale perché Onana ha sempre partecipato alle partite e nella grande stagione dell'Inter che se dovesse vincere la Champions sarebbe grandissima ci sono comunque delle cose che secondo me vanno analizzate perché è sempre il solito discorso così come la Juventus ha degli attenuanti così come il Milan non ha avuto Mignan la Lazio non ha avuto Immobili ogni squadra ha delle cose a cui potersi aggrappare così come ogni allenatore ogni squadra ha delle responsabilità secondo me il fatto che per sette giornate nelle quali l'Inter ha accumulato un netto ritardo dal Napoli ci sia stato Andano vinc in porta ha creato e ha contribuito a creare quel solco di 8-10 punti dal quale poi l'Inter ha dovuto sempre arrampicarsi e recuperare e questa è una colpa è un errore di Inzaghi come quello di cambiare quando cambiava 8 giocatori in una squadra non vinceva neanche una partita quella è un'altra colpa dopodiché la stagione Inzaghi ha anche tanti alti oltre che alcuni bassi però non è che siccome hai vinto allora tutto buono hai fatto male allora tutto male non è così cioè il buono e il cattivo nelle cose belle e nelle cose brutte anche nelle stagioni negative ci sono delle cose belle secondo me così come anche nelle stagioni in questi ci sono delle cose brutte è abbastanza palese questo aggiungiamo che Onana è il primo portiere della stagione dell'Inter a non prendere gol per quattro derby consecutivi che è una cosa che ha avuto un peso nella stagione dell'Inter visto come è andata da gennaio in avanti e che già ai tempi dell'Ajax io ricordo fare dichiarazioni spesso anche sopra le righe verso i propri tifosi c'era il portiere che non ha paura di nulla a livello dialettico e questa è una cosa che come dire è tipico dei portieri e tanto il portiere Cesni stesso Megnano sono portieri di grande personalità anche verbale e chiaramente dà all'Inter un coraggio anche nell'impostazione che Andanovic per vari motivi non riusciva più dare io ricordo diversi gol presi anche quest'anno all'inizio stagione all'Inter con i giocatori che sembravano un po' spesati nella gestione della fase difensiva forse anche perché a guidarli c'era un portiere che era un po' non dico come dire introverso ma pur essendo il capitano dell'Inter ma forse non dava quella personalità al reparto che Onana quasi naturalmente dà e questo è uno dei motivi dell'Inter mi appoggio sulla questione Onana a due messaggi che sono arrivati uno dopo l'altro uno è De Flippator che dice Onana potrebbe essere anche un ottimo alleato nella Lega Serie A per la lotta al razzismo del nostro campionato con la personalità che ha il portiere dell'Inter e sotto invece Mattia dice ma chi doveva giocare Onana era appena arrivato e Andano invece c'era titolare e un ottimo portiere questo valeva nel 2017 dal 2018 in ogni anno era buono per mettere un altro in porta nel 2023 non era proprio accettabile questa cosa caro Mattia just do speech e poi spesso si parla di Onana come giovane Onana è 96 che sai che poi è un giovane gatti eccetera eccetera è l'Italia ragazzi no è vero un portiere ha fatto finali europee che ha un esperienza credo abbia l'esperienza internazionale più grande che c'è in rosa dopo Lukaku quindi su questo no però l'amico che ha letto prima Travis secondo me ha centrato il punto quello che voglio dire io è che secondo me un giocatore del genere può diventare anche un uomo immagine non solo dell'Inter ma proprio della Serie A perché non è un giocatore banale è difficile secondo me trovare giocatori non banali in giro e lui è uno che ogni volta che ti dice qualcosa che ti fa una dichiarazione ci riflette sempre tre quattro secondi prima di parlare perché vuole esprimerti per bene un pensiero che ha dentro non ha retorica a me questa cosa piace tantissimo è un uomo è un portiere che non ha retorica da questo punto di vista è cresciuto in una delle scuole calcistiche che più aiuta i calciatori a pensare a esprimersi in maniera compiuta cioè l'Ajax al di là di tutto ciò che ha dato al calcio mondiale l'Ajax è anche una squadra che ha formato uomini e calciatori pensanti che a volte addirittura De Ligt no come parlava bene De Ligt alla Juve erano dei migliori non solo in campo ma anche nelle interviste l'Ajax dall'under 15 a fare l'intervista ed era capitato da 19 anni ecco è gente che è abituata anche a discutere magari anche di tattica con l'allenatore una cosa che in Italia è lunare è andare a un giocatore che si metta sul piano dell'allenatore a livello tattico l'Ajax ti insegna dare responsabilità ai suoi giocatori è una cosa che insegna davvero al settore giovanile e Onana mi sembra da questo punto di vista il classico prodotto dell'Ajax che è lì e sa stare al mondo e sa stare non solo in un campo di calcio ma anche in tutto ciò che lo circonda e che è ugualmente importante tornando al discorso di Allegri di prima ovvero la comunicazione il rapportarsi con i social con il tifoso anche magari andando allo scontro come l'anno scorso all'Ajax dove era criticato per qualche errore ha fatto gli errori ha avuto anche una squalifica per doping sappiamo una carriera non linearissima quella di i mondiali di Cameron è una personalità a volte anche strabordante però sapendolo inquadrare e gestire come hai detto tu va bene allora a proposito di comunicazione a proposito di Inter credo sia il momento caro Andre di inforcare i cartoncini usare quei bellissimi cartoncini che sono stati l'occupazione del mio pomeriggio guardate che belli e su questi cartoncini voi dovete scriverci chi schierereste mentre intanto Trevi fa questo in una scena da via col vento Trevi fa cosa Trevi fa cosa nei posti sembra Malena Monica Bellucci Malena ti ringrazio con tutto il bene con tutta l'autostima Monica Bellucci però sai parliamo di livelli celestiali 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 con quei cartoncini siete dotati anche di un pennarello proprio uno solo eccolo lì dovete scrivere chi schierereste fra Lukaku e Edin Dzeko a naso so cosa scriverà Riccardo Trevisani partito nella finale di Istanbul io l'ho già fatto ce l'ho già pronto e dopo ve lo faccio vedere parte 3 quello sarà molto veloce parte 3 sarà molto veloce e la parola pensata perché sembra però inquadrati inquadrati inquadro va bene lasciamo un po' di sorpresa mentre Trevi vedo con la cosa dell'occhio che sta scrivendo credo anche molto bene perché lo vedo che va piano 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 e sta aggiungendo le parole ti tiro su di morale Ricky perché Harry Sholip dice che con la Bellucci te la giochi non lo sminuovi a ping pong a ping pong credo che possa vincere c'è un ragazzo di Viareggio che dice quando è che viene a Viareggio che ti faccio 21 6 21 5 poi ho cambiato in 21 7 21 4 ma io lo so di non essere forte e che sono forte bugia bugia questo prendiamo ancora qualche un mosaico gira che cosa hai scritto scrivo io ho scritto il numero di mani intanto intanto anche Nando che non so la segretezza di questa scena mi piace molto quando possiamo andare anche su sull'inquadratura totale perché non si vede ed ecco è sceso dal carro Siani no non sono sceso dal carro comunque possiamo una vergogna possiamo sottolineare che Giuseppe Pastore è mancino e tutti i geni sono mancini è vero come tutti i grandi allenatori sono centrocampisti è una delle mie battaglie di vita i geni mancini sono dei geni scopro oggi che Pastore è mancino metterebbe De Zerbi credo gira 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 quindi che facciamo giriamo tutti insieme o giriamo una alla volta no una alla volta con inquadratura giù i tablet a cominciare a cominciare dal coordinatore dai ok Andrea Gonzale sparti tu devo dire che il coordinatore non si è sprecato come vi siete sprecati voi che ho visto che avete scritto di tutto per vi ho scritto semplicemente ed in Geko per me deve giocare Geko soprattutto per la logica dei 90 minuti perché con la pressione del City altissima io vedo bene Lukaku nell'ultima mezz'ora dal 63esimo in poi per scegliere un numero a caso a caso ok Trevi eh no se no andiamo vado io vado io in quadri eccolo qua per rimanere in equilibrio Big Rom Big Rom secondo me deve giocare Big Rom perché non vedo una partita diversa dall'Inter in ripartenza onestamente e se l'Inter bisogna sapersi passare la palla eh se l'Inter però l'ho visto bene ultimamente Luca con ragazzi quella palla che dà Brozovic secondo me certifica proprio il fatto di averlo recuperato al 100% se Lukaku sta bene al 100% io lo faccio parli dell'amichevole con l'Atalanta giusto? parlo dell'amichevole per capire le partite pesano le partite pesano le partite pesano i gol se pesano non si contano va bene però questo non esclude assolutamente Geko nella mia idea poi viene dalla buona finale col Siviglia quindi comunque ci sta è una buona scelta è una buona scelta è un'ottima finale sono sicuro che giocheranno tutti e due alla fine chiaramente si divideranno fino a qua però io onestamente lo sto vedendo bene sono sicuro che questa cosa non si avvererà tra l'altro io la scrivo ma sono sicuro al 100% che giocherà Geko però nella mia idea per come ho visto Lukaku ultimamente io farei giocare Lukaku chi dei due andrei con Trevi andrei con Trevi e chiudiamo con Fassi vabbè andiamo con Trevi dai Trevi ha fatto da te mamma quattro ed in Geko il cigno di Sarajevo giocherà ed in Geko cioè giocherà io farei giocare il numero nove come scritto ai quattro angoli della pagina il cigno di Sarajevo ed in Geko il quale il quale vanta i seguenti numeri 28 gare a titolare stagionale l'Inter ne ha perse quattro l'ultima il 6 di novembre contro la Juventus sono passati sette mesi e mezzo da quando ha perso l'ultima gara con Geko in campo titolare l'Inter e aggiungerei questo che Lukaku è partito titolare nella Champions League in cui l'Inter è in finale zero partite tu vuoi cambiare questa strategia alla finale caro Nando Siani che comunque Sarajevo a Istanbul immagino e questa cosa vuoi cambiarla proprio alla finale dopo che l'Inter dopo 12 partite ha fatto la Champions League fotonica tu vuoi cambiare il meccanismo e mettere Lukaku titolare una partita dove tu pagheresti per andare ai supplementari quindi ti servirebbero anche i 120 minuti vuoi mettere Lukaku titolare così al 120esimo gioca lo zio no ragazzi e in più Geko che io adoro non so se si è capito secondo me è molto meglio quando parte di quando entra mentre Lukaku si è non dico altafinizzato ma comunque ha imparato per logiche di utilità anche ad essere determinante a gara in corso quindi secondo me è proprio 66 non 63 come direbbe Gonsalves e poi gli altri 60 li gioca Lukaku perché il gioco alla gara dovrà 126 minuti questo mi pare evidente dici dici no speriamo ah rigori perché tu vuoi commentare i rigori maledetto cioè questo è proprio un conflitto di interessi se c'è un intervista che non firmerebbe per andare a rigori chiaramente di cosa parliamo e quindi anche il telecronista che è neutrale ma italiano spera di andare a calci di rigore quindi in questo momento 2 a 1 per Edin Dzeko Pastor decido io più o meno no al contrario eccoci Dzeko questa è una bellissima parentesi graffa cosa farei io una delle parentesi graffe più brutte bellissima sembra il profilo sembra il cigno è chiaramente il cigno è il cigno vabbè il demone vuoi che non sapeva anche questa il demone delle parentesi cosa fare io cosa farà Inzaghi cioè la stessa cosa Inzaghi è un abitudinario ma di ferro uno che non gioca cambia modulo da 7 anni e quindi non vedo perché davvero manco i cambi cambiano da 7 anni non vedo perché dovrebbe giocare Lukaku ma è giusto perché per quello che avete detto insomma il City non è del tutto vero cioè sono d'accordo Nando quando dici che partita può essere con il City devi solo ripartire ci sta la mia idea non lo so Dzeko al di là del fatto che è più lento il Lukaku come tutti gli attaccanti verso dell'Inter però dà una qualità diffusa che non è soltanto in quella progressione in quella verticalizzazione ma è anche uno che fa tante altre cose anche meno visibili quelle che fa Lukaku e nel nel fatto di dover fare una partita perfetta in ogni centimetro quadro di campo Dzeko perché è la partita della sua vita la sua prima fine di Champions qui arriva riposato perché mi sembra che stia comunque centellinandola la giocherà al meglio delle sue possibilità io non vedo un Dzeko che sbagli di partita Lukaku lo ha già fatto diceva bene nella sua carriera le partite importanti a volte sia con il nazionale che con i club non sono state aggiungo due cose a questo discorso sposalizio di Bastoghe che va sposato due cose la prima è quando il Manchester City ti pressa tu devi uscire dalla pressione e siccome ti pressa 80 metri dalla porta non è che Lukaku può girarsi fare 80 metri saltarli tutti e fare gol tu dovrai uscire con o gli esterni o i centrocampisti o bastoni dalla difesa e appoggiarti alla punta che deve saper giocare di prima giocare bene tecnicamente e cercare di appoggiarsi a qualche compagno avendo visione di gioco sono tutte e tre cose che Dzeko fa 12-13 mila volte meglio di Lukaku poi ovviamente tutti ci scrivono oh ma Lukaku è in forma è vero in queste ultime amichevoli stagionali ha fatto molto molto bene però l'Inter era in finale di Champions League con un altro attaccante titolare e aggiungo Dzeko ha fatto solo 5 gol nel 2023 vogliamo analizzare i 5 gol Supercoppa 2-0 Supercoppa italiana finale trofeo Inter derby Champions League derby 1-0 per metterla in discesa poi 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 che ha fatto Dzeko Inter-Napoli 1-0 Inter-Napoli 1-0 match che in quel momento decideva lo scudetto o meno dell'Inter e poi la doppietta di Verona che non conta niente era perché a Balneario comunque sono due gol di sinistro notevoli ma al di là di questo non contano nel mio pesare i gol Verona la tolgo gli altri tre gol sono Inter-Napoli 1-0 Inter-Milan 1-0 e il raddoppio a Riad che chiude dopo 25 minuti la contesa ma di che stiamo a parlare? ma di che? che discussione è? Big Rom la so però io allora io so lo so che gioca Dzeko è chiaro che gioca Dzeko e anche giusto che giochi Dzeko probabilmente per tutto quello che mi state dicendo voi io quello che vedo è un Lukaku informissima se mi baso sull'ultimo periodo secondo me Lukaku può giocare quindi gioca Brozovic e Brozovic? esatto altra domanda che vi faccio non so se dobbiamo cartoncinare anche qui ma Brozo c'ha la cosa per dire Mkhitaryan recupera? Mkhitaryan dovrebbe recuperare e se recupera lo sai meglio di me però attenzione non lo so perché di solito a centrocampo poi il giocatore che si infortuna perde il posto come Brozovic è così però c'è una volume zala no no vi chiedo è capitato in questo periodo si era partito in un certo modo poi un giocatore si fa male si ferma io non avevo mai Brozovic ma è uscito Brozovic se Mkhitaryan sta bene per me gioca lui per te gioca Mkhitaryan e conferma l'undici del derby quindi Ciala Mkhitaryan fuori Brozovic telecronista della finale di Champions League dice che non avrebbe tolto Brozovic alla semifinale di Champions ma si fiderà dell'allenatore che l'ha tolto nella semifinale di Champions vincendo la 3-0 tra l'andato del ritorno poi secondo me nella semifinale di ritorno l'infortuno di Mkhitaryan non dico che aiuta l'Inter non dico questo però ad un certo punto con Brozovic il pallone sparisce con l'ingresso di Brozovic il Mila fa molta più fatica dopo a centro campo è il motivo per cui io faccio proprio fatica a levare Brozovic dal campo specialmente contro il Manchester City per le stesse ragioni per cui deve giocare Dzeko cioè che la qualità tecnica la squisitezza nell'uscita palla la visione di gioco tu col City devi vivere nel futuro devi sapere dove arriveranno quando arriveranno quanti arriveranno e dove mandare il pallone e devi saperlo fare e di questi Brozovic è professore universitario in faccia a Mkhitaryan in faccia a Varella in faccia a Cialanoglu a gestione di palla e visione futurista di Bologna e quindi Mkhitaryan o Cialanoglu? qui entriamo in una didattica secondo me personale ok io penso che nel grande calcio nel grande calcio Mkhitaryan sia meglio di Cialanoglu nel pensiero elevato del grande calcio ma per me levare Cialanoglu dal campo è impossibile perché credo che uno che ti possa tirare da 30 metri all'incrocio dei pali uno scaldabagno non possa mai stare fuori dal campo sì sì i calci piazzati sono troppo importanti per l'Inter che avrà poche occasioni magari quasi tutte su calcio piazzato però nell'analisi tattica della partita siccome non sono una persona mi riengo molto onesto io non metterei Mkhitaryan però se c'è un centrocampista dell'Inter che sa andare con e senza palla negli spazi che il sito può lasciare è Mkhitaryan l'ha fatto col Mkhitaryan a differenza di quella degli attaccanti che è una non scelta è una cosa di una facilità è proprio nettamente Dzeko è proprio facile quando hai fatto il cartoncino su Brozovic e Milia e scherzi a parte mentre sull'attacco ho un'idea molto sedimentata non so come dire qui ho dubbi cioè io stesso mi dici metti metti la formazione boh dipende dalle condizioni di Mkhitaryan in realtà perché insomma è un giocatore che magari a parità di condizioni a parità di condizioni di seduto lo facciamo prima Brozovic fuori perché Mkhitaryan rimane ovvero c'erano un batte i calci piazzati i calci piazzati è la prima cosa che secondo me a cui pensa l'Inter per provare a fare gol in questa partita è così perché 20% di possesso palla farai quindi no 30 25 la chiudiamo si è d'accordo come dici tu è uno che attacca gli spazi e nelle ripartenze probabili eventuali dell'Inter è uno che ha più che ha più no che deve esserci giochi una cena con me over 30% possesso palla l'Inter dipende dal risultato over 30% dai anche per me over 30% per me è 18% 18% è City Cavese se il City aveva vantaggio al primo tempo l'Inter fa più possesso palla al primo tempo ah tu dici io faccio per me fa over 30 a questo punto si over 30 32% dipende il Real Madrid nel secondo tempo a Manchester ha fatto quasi nello stesso possesso del City però ha preso 4 gol è vero quindi non sarebbe per forza una bella notizia per l'Inter eh no però insomma anch'io faccio fatica a levare Brozovic in questo momento considerando come sta poi in Champions League effettivamente ha sempre giocato con gli altri Mattia si è accalorato e dice ma se poi vanno 2 a 0 Lukaku che entra a fare questa è una bellissima teoria alla quale io rispondo e se vanno 2 a 0 con Lukaku Dzeko che entra a fare mentre se entra Lukaku tu puoi pensare di avere una cosa diversa a livello di movimento mobilità di un impatto sulla partita che ti possa riportare se invece vai 2 a 0 e hai già messo Lukaku che fai? sai meglio di me che Dzeko dalla panchina non ha fatto grandi cose in questo campionato appunto quindi se parti con Lukaku e stai 2 a 0 per gli altri che può succedere che giochi Lukaku che giochi Dzeko che giochi Beccalossi che giochi Siani che giochi Sandro Mazzotti chiunque giochi tu puoi stare a 3 a 0 all'intervallo però visto che Istanbul pure prende morale 3 a 0 all'intervallo è già è stato teatro 3 a 0 all'intervallo sarebbe teatro quando eravamo qua con Pastor quando sono usciti i sorteggi dei quarti a dire certo sarebbe clamoroso Milan real Istanbul Ancelotti e il Milan non siamo stati premiati il calcio è più complesso il calcio non ha il nostro romanticismo andiamo avanti con Sales perché tocca a Pastor pastorale se possibile ancora più geniale del solito eccoci qua omaggio a Lecce omaggio a Lecce che Lusule Lusule scusate Sule che ha vinto no il Germania ah come no il Meisterschaft esatto quindi il campione in Germania no è un omaggio a Lecce di cui avevamo parlato almeno due volte in questo programma di lunedì la prima per fargli complimenti dopo la vittoria a Bergamo quando sembrava quasi salvo con reti di Baschirotto e C6 poi per prendercela o prendermela l'ho fatto io sempre a Pastorale contro i tifosi del Lecce la curva del Lecce che aveva ricorderete contestato il Lecce durante il secondo tempo di Lecce-Sampdoria una squadra che comunque era ancora con un certo margine sulla retrocessione e quel margine l'ha conservato fino in fondo perché ieri si è salvato con pieno merito e dobbiamo ricordare due o tre dati che sottolineano la bontà del progetto Lecce il primo è che è il monte in gaggi più basso della serie A e si è salvato e ieri Baroni ricordava che a inizio stagione c'erano i ballottaggi sui bookmakers che arriverà ultimo Lecce o Cremonese era data quindi nell'ultima griglia nell'ultima fila della griglia della serie A il secondo dato è che ha l'età media più bassa della serie A e questo è una piccola vendetta una piccola rivincita su chi sottolinea che bisogna avere per forza una squadra esperta una squadra di gente abituata a soffrire per salvarsi non è vero il Lecce ha saputo soffrire è andato un po' in difficoltà è vero da marzo in poi ma ieri in una gara più difficile con un po' di fortuna al finale ma non meritiamo affatto di perdere il Lecce va molto meglio del Monza il terzo motivo è che il Lecce delle ultime sei del campionato è l'unica che non ha esonerato l'allenatore ed è una cosa che era chiesta a gran voce nelle ultime settimane da molti dalla piazza di Lecce perché Baroni ha perso il filo dello spogliatoio perché è un allenatore che è sempre stato esonerato in serie A e invece anche lui che ieri aveva anche motivi come dire personali per essere commosso emozionato dopo la salvezza ha trovato a più di 60 anni la sua prima salvezza in serie A dopo la promozione peraltro quindi insomma è una doppia impresa è una squadra che porta via da questo campionato tante belle cose dei buoni giocatori Hulman soprattutto ma anche Strefezza io credo che Hulman sia destinato a fare una grande carriera Strefezza non così tanto ma di quelli che si sono messi in luce è sicuramente il più il più interessante Baschirotto oggi convocato in nazionale per la Nations League da Mancini un ottimo portiere che anche ieri è stato abbastanza decisivo una difesa che non ha mai subito più di due gol a partita per una squadra di bassa classifica è un'impresa clamorosa specialmente nel calcio dei tre punti a vittoria e in generale un clima di freschezza una squadra che si oppone alla fatica mentale che ieri ho visto nel Verona o nello Spezia che si è fatto travolgere mentre il Lecce non è mai stato travolto in questo campionato una squadra che merita ampiamente raggiungo un dato di cui si può anche parlare per la prima volta dopo 18 anni retrocedono in Serie B tre squadre del Nord non capitava dal 2005 il vento del Nord e arrivano l'Uventu prima e seconda due squadre del centro-sud se la Lazio vincera a Empoli sta cambiando anche qualcosa nella geografia c'è salgono squadre come il Frosinone o vediamo un Catanzaro strepitoso da 100 punti il Palermo che comunque ha grandi ambizioni nello stesso Bari che stasera ha perso ma comunque è arrivato terzo tra l'altro arriva dal sud anche il Sud-Tiro anche quello è un certo tipo di Sud è vero sta cambiando qualcosa a livello di risorse cioè il calcio italiano non è più concentrato a Nord ma sta anche come dire è vero anche economicamente si sta spostando è una squadra di notte un'ottima società sta distribuendo le sue competenze le sue risorse in maniera più omogenea sul territorio e questo è anche una buona notizia perché insomma è campionato italiano e quindi è giusto che tutta l'Italia dal Nord al Sud vada rappresentata nella maniera più completa possibile assolutamente sì c'è chi ci dice che questa cosa l'ha già sentita in rasoiate giusto ma va bene va bene insomma vi ricordiamo sempre il rasoiato lo trovate tutte le mattine lunedì al venerdì sulle piattaforme streaming italiane Berlino Banfi che dice non è una parete si graffa è la E di Edin è la E di Edin la vogliamo rivedere rivediamo rimostracela per favore è un cigno è chiaramente un cigno esatto il cigno c'è poco da dire è chiaramente un cigno è girato uguale è girato uguale è girato sembra quando fanno nelle facce tipo Paperino è un po' Donald Duck è girato è così è così comunque bravo il Lecce no Tredi bene il Lecce bravo il Lecce mi piace come teoria bravo il Lecce il Lecce nel compresso ha fatto un cambiato molto dignitoso quella cosa che dice Giuseppe De Montengaggi è molto valida sono molto contento che non abbia esonerato l'allenatore che mi sembra non solo capace ma una brava persona vero e ha fatto vedere anche delle cose dei spazi di buon calcio una squadra che non ha mai goleato ma non ha mai svaccato è una squadra che è rimasta sempre presente a se stessa giocando più o meno male ma comunque dignitosamente è rimasta in Serie A poi sarà che non so se a tutti ma mi piace molto il mare quindi è una città per cui è una città bellissima oltre alla birra del mare è una città bellissima quindi De Lecce Simu Simu la 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 adunca ciamu ciamu la 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 questo è un coro famoso degli amici leccesi che salutiamo così ci prendiamo anche il pubblico di Lecce che stasera sarà in delirio che il Bari ha perso è una festa incredibile se loro salvi il Bari ha perso il Bari ha perso il Suttirola l'ultimo secondo e loro hanno vinto l'ultimo secondo a Monza era la cosa della vita tra l'altro la domanda che vorrei farvi riguarda sempre Lecce ma riguarda anche il Milan Colombo che segna il rigore finale dimostrando anche grande personalità ce lo teniamo al Milan come quarto attaccante oppure oppure no ve l'avevo fatta già qualche mese fa però ve la rifaccio adesso ha bisogno di una prima punta titolare giovane quindi si parla di Open Da vedremo sta arrivando Kamada che però è un giocatore più utile però è un buon giocatore poi c'è Giroud che naturalmente rimarrà c'è un sostituto di Ibrahimovic che dovrebbe essere stato individuato in Arnautovic e quindi non è un giocatore di primo pelo la quarta punta che il Milan è un po' mancata perché Origi di fatto non è esistito così come Rebic Colombo può darsi secondo me gli farebbe meglio un altro anno un po' più su in quella fascia settimo dodicesimo posto secondo me anche a Lecce ma giocandone 38 Lecce titolare è vero può darsi non 19-19 come hanno fatto quest'anno può darsi comunque un anno un po' più continuo e poi vediamo perché secondo me nella continuità c'è un giocatore che se lo metti in capo per 20 minuti secondo me non ti risolga niente uno che fa la quarta punta giocava molto poco mi sembra mi ricordo l'anno dello scudetto dell'Inter con Pinamonti che di fatto non giocava mai chiaro giocando con una punta ci sono comunque dei geni contemporanei che voi non leggete ragazzi per esempio se il ragazzo dice da interista mi tocca ammettere che se la merita più il City però il loro percorso è da top il nostro più da pianeti che si allineano nome della persona Brahim 1994 sicuramente interista probabilmente non è interista va bene è proprio Brahim Diaz ovviamente è proprio lui che salutiamo grande Brahim tanto anche lui rischia forse rischia di tornare a Madrid molto probabilmente l'acquisto di Kamada potrebbe chiaramente aver fatto come dire Nia deve spendere 22 milioni per Diaz e sinceramente forse non li va non lo so però è una scelta comunque sono tanti 22 milioni notevole per un giocatore che anche quest'anno è stato molto altalenante poi l'ultima scena che si ricorda della sua stagione è l'errore al decimuto del derby ed è una brutta scena poi ha fatto anche gol non è male come giocatore un buon giocatore però non ha secondo me la continuità sulle 40 partite che anche a livello di gol non ha negato in doppia cifra e le ha giocate tante tu lo terresti tra i vibri Brahim Diaz dipende anche cifre dipende anche cifre 22 se mi fanno un bello sconto dico a 15 lo prendo tutta la vita a 25 gli dico grazie è un po' troppo perché quello che dice Giuseppe è vero nel senso che un giocatore che a me quelle 5 partite dell'anno che è il demonio mi fa impazzire ma ne servirebbero almeno 15-20 per essere un giocatore di un determinato livello poi è uno da gol pesanti io questa cosa la dico sempre dei giocatori c'è Brahim uno che segna la Juve uno che segna il Libre poi uno che segna il Tottenham Brahim è uno da gol pesanti e questo vale anche per il signore francese che ieri ha fatto un gol bellissimo di una bellezza il gol di Giroud ragazzi ma di una bellezza vola come Michael Jordan sta per aria 4 secondi si gira e sta in torsione la metta all'angolino c'è una cosa bello Marcarlo forse avrebbe aiutato Marcarlo sì ma c'era stata l'invasione di Gatti nelle rigore va bene però la bellezza del gol rimane intanto c'è sempre un errore se no finiscono 0-0 poi chiaro che quello di Gatti è malissiano come errore lui però fa un grande gol un gol veramente da fuori classe del gioco aereo quale è Giroud e da fuori classe dei gol pesanti per questo mi ci sono allacciato e Sassuolo e il derby a Napoli e la Juve è sempre Giroud ragazzi che fa i gol pesanti i gol al novantesimo quello spaccato sul cross di Tonali adesso non ricordo contro chi con lo Spezia cioè Giroud è uno da gol pesanti questa cosa negli anni di Milano ha fatto tanto la differenza se Milano è passato da secondo a primo e top 4 in Europa c'entra tanto Olivier Giroud che si è detto ah ma non c'entra avanti segna poco ma però è un giocatore vecchio tutte queste serie di puttanate che sono spesso a corollaria di quelli che le partite le vedono con l'almanac l'ha fatto a 13 gol una pippa non va bene fortissimo tutti da 1 a 0 tutti decisivi quello fa la differenza fa assolutamente la differenza lettera o altra sentenza perché certo ci han chiesto di parlare della prossima sentenza mi sa che mi devo dare la giacca anche l'orologio e anche gli occhiali e fare un po' a botte la prossima sentenza tra l'altro stavo leggendo un commento di Mattia che ci chiedeva parlerete del Dortmund e basta avere pazienza perché vedi la chimica che si è creata con i follower della Fontana eccola qua la prossima sentenza allora parto dal presupposto che tifo per il Borussia Dortmund nel senso è proprio una squadra che adoro per i colori per la sua storia perché comunque non è quella che nasce perché deve sempre vincere è una squadra che è bella perché ha sempre giocato bene ha avuto delle belle magliette e ha uno dei tifi se mi passate il termine più belli della storia e ieri anzi l'altro ieri l'ha dimostrato una volta di più cioè quello che si è visto a Dortmund ragazzi avrebbe preso e fatto vedere tipo 2-3 minuti al giorno a tutte le generazioni dai bambini di 6 anni a quelli di 9 a quelli di 12 a quelli di 15 a quelli di 18 e anche ai bambini di 40 anni che forse sono quelli che ne hanno più bisogno vincere è importante ma è certamente una cosa che si può fare in vari modi e il Borussia Dortmund non ha vinto sul campo si è suicidata come spesso capita in Bundesliga spesso abbiamo visto delle ultime giornate di questa natura e poi i giocatori piangevano l'allenatore piangeva sono tutti sotto la curva il muro giallo cantava era tutto compatto non c'è una persona che è andata via non dico all'ottantaduesimo ma al novantasettesimo quando si era capito che dopo il gol di Musiala la festa era abbondantemente finita una scena straordinaria di un popolo straordinario quello del Dortmund che veramente dovrebbe essere preso ad esempio da qualsiasi tifoseria anche da quella del Liverpool secondo me per essere proprio il miglior tifo che si possa che si possa vedere poi avremo una parete sui giocatori del Borussia e su come si sono suicidati in questa partita parlando successivamente di calcio perché sarà suicidato pure il Bayern cioè ha preso pure il Bayern poi è arrivato il talento di Jamal Musiala non esattamente una pippa e hanno vinto la partita però la sfiglia tavica di Marco Reus e il suicidio di massa hanno portato a un risultato negativo che però ci ha fatto vedere una cosa positiva ecco questo dico nella negatività della giornata che doveva essere generata il Dortmund abbiamo visto una roba secondo me bellissima posso dire una cosa se detto che è tutto giusto naturalmente è stata una scena molto emozionante non c'è il rischio anche un po' inconsapevole che una scena di questo tipo ti porti a perdere ancora faccia nascere una specie di epica della sconfitta cioè anche se perdiamo rimaniamo i più bravi i più belli di tutti sempre e va bene così ovviamente chiaramente il Borussia non è certo contento qualcosa è successo ed è uno psicodramma però non dico che bisogna contestarle naturalmente no però è una scena oltre al fatto che non la vedremo mai nella vita dalle nostre parti e questo fa parte delle differenze anche culturali come dire inscalfibili però è una scena fin troppo fin troppo perfetta come se ne se l'aspettassero ecco guarda perché è così perché è così aggiungo non la vedremo mai da noi io altra sera ero all'olimpico come Nandone Siani a vedere la finale di Coppa Italia verso l'ottantesimo usciva la gente 2 a 1 con la Fiorentina che attaccava no no usciva la gente generale dico ma che venite a fare vedere la partita c'è traffico io ho fatto un'ora e un quarto per fare un chilometro quando sono andato via ma certo un'ora e un quarto per fare un chilometro perché poi c'è stata gestione delle strade straordinaria veramente complimenti poi uno ha fermato una macchina a un collo di bottiglia di un incrocio gli si è fermata la macchina quindi la strada è ritratta a una corsia arrivavano un miliardo di macchine è successo il finimondo ma non c'è andata allo stadio a una finale dove c'è anche la premiazione tutto il dopo per andare via all'ottantesimo all'ottantaduesimo ma che c'è andata a fare però c'è quella frase bellissima ti ricordi che ci torna una volta Bielsa che disse ti amo anche se vinci ci sono alcuni tifosi è una frase insidiosa è una frase insidiosa non lo so per come vedo molti dicono anche l'Inter l'anno scorso non fu proprio la stessa cosa perché il Milan aveva praticamente già l'intero scudetto esatto era una specie di una cosa che si era già diciamo si capiva già il senso dopo 20 minuti della partita ti amo anche se vinci dici tu c'è anche quella è una frase molto bella è pessimo il tifoso che segue la squadra solo quando vince non è un tifoso naturalmente però c'è questa molte volte c'è anche da parte nostra c'è questa esaltazione giusta ma un po' rischiosa un po' come dire velenosa della bella sconfitta ok questa è la sconfitta epocale che voglio dire non ripeto non si può reagire in nessun modo non si può semplicemente prevedere è curioso e quanto vuoi mi suona strano è allora io che Borussia abbia avesse già questa specie di predestinazione voglio venire da te restando anche su quello che ha detto Trevi perché è bellissimo vedere quella scena è straordinaria c'è da dire che una squadra che perde una Bundesliga vinta praticamente dopo 11 anni contro una formazione di metà classifica non ha nulla da giocarsi praticamente gemellata perché si passano gli allenatori esatto la miglior partita possibile per vincere il campionato perdi io ti applaudo anche però che cavolo no cioè nel senso non va bene questa cosa no io sono io sarei arrabbiatissimo con la mia squadra se fosse un tifoso del Borussia va bene bravi per tutto quello che avete dato bravi perché vi vorrò sempre no lo so l'hanno fatto apposta no ci mancherebbe la metà tedesca che fa 6-0 6-0 in quasi tutte le cose ci mancherebbe non l'hanno fatto apposta la metà classifica va là e prova a vinceregli la partita no è vero è vero anche quello è vero anche quello cioè è chiaro che il Mainz è vedente in Italia il colpo del Mainz si deveva scansare assolutamente no mica sto dicendo questo sto dicendo che però magari il Borussia si è un attimo fatto prendere dalla situazione non ha avuto la lucidità mentale ha sbagliato un calcio di rigore ha attaccato in maniera confusa sono finiti è come Siviglia-Juve il rigore di Aller il rigore di Aller è finito è la fine di Roma li ha spenti se andiamo in svantaggio subito pronti via ma anche cominciati già perdiamo poi abbiamo il rigore e sbagliamo secondo me ci sono alcuni campionati qui c'è una predisposizione alla sconfitta contro il Bayern sono d'accordo in Germania sono d'accordissimo arrivi lì e dici non hai dato sempre questo esatto però secondo me questa volta gliel'hai consegnato non è un caso che il Bayern manda via tutti nonostante avendo la Bundesliga perché sai di aver fatto una stagione tremenda l'hai consegnato dici io non accetto parole in questa trasmissione inizino con cons che non riguardano quel signore l'hai consegnato non lo so secondo me si può parlare anche un po' di questo perché il Bayern Monaco vive la sua peggior stagione negli ultimi undici anni fa di tutto per sabotarsi e la vince comunque visto che parliamo spesso male del prodotto Serie A il prodotto Bundesliga un campionato in cui nemmeno volendo perderlo non si riesce a perdere il Bayern cinque di dopo hanno cacciato tutti infatti io oltre a ieri ed è evidente di ieri ma oltre a ieri insomma loro lo perdono quando con l'arrivo di Tuchel si fanno insimbellire 4-0 che poi diventa 4-2 anche questo è un'altra partita gravi quella è una partita gravissima secondo me che il Bayern in quelle condizioni che non stava in piedi con l'allenatore cambiato uscito dalla Champions eccetera eccetera quasi anche con lo Stoccard è un bel capolavoro del Dortmund sì avanti 2-0 in superità america faremo delle indagini parlamentari perché manca un rigore al Dortmund di cui l'arrivo si è un rigore pazzesco l'ho fatto l'ho scritto subito a Giuse effettivamente guardando la partita come fanno a dare rigore era lì un rigore palese gigante faremo solo di questo invece là si parla di altro mi dice Luchino Bello non capisco perché Trevi ce l'ha con Lukaku ma chi ce l'ha con Lukaku dico semplicemente che tecnicamente Dzeko è di un'altra categoria è una partita in cui deve uscire la palla è meglio mettere Dzeko e in più sono dell'idea che siccome Dzeko poi dopo 90 minuti comunque non li fa la parte finale di partita che normalmente è quella determinante la puoi giocare con un giocatore più fresco fisicamente anche con magari Rubendias che intanto si è stancato o con qualche giocatore che intanto si è stancato quindi non è una questione di antipatia anzi io adoro Romero Lukaku lo adoro adoro di più quell'altro però sono due giocatori veramente per me fortissimi ma poi guardo anche quelle che sono le statistiche se con Lukaku hai perso 19 volte di tonale hai perso 7 volte con Dzeko 28 titolare hai perso 4 volte che l'ultimo 7 mesi fa secondo me sono cose che tu devi considerare su come gioca la squadra e su come si sta in campo eccetera 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 ma qui non odiamo nessuno ci vogliamo ci vogliamo e vogliamo tutti bene anzi se odiassimo qualcuno diventerebbe poco professionale qualsiasi tipo di discorso bravo andiamo avanti andiamo avanti perché advisor perché io consiglio mentre lancio la sigla sì a Trevi di togliersi la giacca arrotolarsi le maniche di camicia perché secondo me qua c'è da litigare ma che succede eccola no ma non con voi non è proprio uno sconosciuto non è proprio giovanissimo ma siccome dopo il 2000 lo potete tranquillamente mettere negli omologati del Trevi Advisor che è dal 2000 in avanti Rodrigo Goesch è un giocatore di cui siamo già trovati a parlare in un'altra situazione in questa fantastica Fontana di Trevi cioè quando ho definito Benzema Vinicius e Rodrigo il tridente migliore della storia sono stato visto dalle anche reazioni su YouTube sui vari canali su Instagram anche abbastanza contraddetto per usare un efemismo poi dell'eleganza classica del popolo social se non avete visto Siviglia e Real Madrid guardatela se non avete visto quello che ha fatto Rodrigo negli ultimi due anni studiatelo Rodrigo Goesch è un fuoriclasse è un giocatore straordinario e non si prende gli odori della cronaca solo perché gioca in coppia con Benzema Pallone d'oro e Vinicius che è tra i primi tre giocatori al mondo più forti ma Rodrigo Goesch è una ira di Dio e la carriera di Rodrigo ne sono certissimo confermerà questa cosa insieme a quella di Vinicius e vi farà capire se ci vorrete arrivare bene se non ci vorrete arrivare è un problema vostro che se Benzema avesse avuto 30 anni anziché 36 e loro 25 anziché 20 ci saremmo ritrovati per 5 anni un tridente che vi avrebbe fatto capire anche a voi che non ce la potete farà capirlo che è il tridente più forte della storia perché sono uno più forte dell'altro il più forte centroavanti degli ultimi 10 anni il più forte esterno-sinistro insieme a Mbappé dopo Mbappé comunque il secondo in quel ruolo il primo in quel altro ruolo e ditemi uno che gioca lì lì terzo del tridente più forte di Rodrigo ditemene uno e io vi ascolto molto molto volentieri è difficile ci sto pensando non viene in mente nessuno ho visto Real Madrid Sivilla e Real Madrid e oggettivamente ha fatto come si dice in gergo i buchi per terra ha fatto una partita incredibile soprattutto il gol dove parte in contropiede dribbla tutti dicono Salah per l'esterno-destro Momo Salah Salah mi sta bene è un pelle di Paragone uno che ha fatto terzo a pallone d'oro quindi parliamo di uno che ha fatto terzo a pallone d'oro di uno che l'ha vinto e di un altro che lo può vincere ma di che parliamo ragazzi Sakat no Bandà lo salutiamo Caramò salutiamo anche lui anche di Francesco trefese no adesso fatti scherzi vabbè dai fortissimo io guarda che la vastità di cose che sa fare Rodrigo in mezzo a una partita non la vede mai nessuno ma Rodrigo è quello che segna col Chelsea è quello che segna due gol col Siviglia l'anno scorso Siviglia guida la rimonta è quello che fa gol sulla palla di Modric io adesso francamente poi la discussione il calcio è bello perché ovviamente tutti hanno una loro una loro opinione veramente tutti però ragazzi però bisogna pure guardare le partite e Rodrigo è un giocatore è un giocatore incredibile il gol che fa l'altro giorno nella tecnica di tiro che era una cosa in cui Ronaldo aveva 101 centesimi mi ha ricordato Ronaldo Ronaldo Ciccio Ronaldo fenomeno cioè Ronaldo Ronaldone e se si aggiungi che Ronaldo è facciata fermo e questo corre pure perché la palla l'ha portata da centrocampo insieme all'amico Tony Cross secondo me parliamo veramente di uno forte 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 2001 lui 2000 Vinicius non hai stats su Rodrigo Pastor no è un giocatore che però ha grande incisività nei momenti importanti qualche settimana fa avevamo tirato in ballo non per qualità tecnica ma proprio per la sua presenza nelle gare che contano il Pedro del Barcellona che ha vinto ha finito in tutte le finali che ha giocato in tutte le competizioni Rodrigo non è ancora arrivato a questo però ecco è il giocatore meno reclamizzato anche per che forse un pochettino meno spettacolare di Vinicius e Benzema diciamo e Benzema però io non ho molto da aggiungere cioè è un tridente impressionante anche perché non si vedono ancora i limiti di questi due giocatori forse sono solo per Vinicius forse un po' caratteriali commentali forse a volte è molto più pacato è meno vistoso però è ugualmente come dire lussuoso tecnicamente avere un giocatore giocatore pazzesco poi trovare uno più spettacolare di Vinicius adesso è anche difficile diciamo quindi il paragone proprio sulla spettacolarità è molto molto complicato ci chiedono insistentemente soprattutto sul tubo se abbiamo parlato di spalletti e allora lettera lettera la lettera a Luciano Spalletti è abbastanza breve a me piacerebbe tanto uno scenario nel quale Spalletti alla fine cambia idea e rimane l'allenatore del Napoli perché penso che il lavoro fatto in questi due anni porterebbe in un terzo anno il Napoli ad andare ancora tra virgolette meglio fermo restando che qualcuno partirà ma tanto certamente verrà sostituito bene perché il Napoli l'ha dimostrato in questi anni di saper sostituire bene qualsiasi giocatore anzi quest'anno che ne ha sostituiti quattro un portantissimo ha vinto lo scudetto dopo 33 anni sarebbe bellissimo vedere quel tipo di lavoro proseguito e vedere una città che è impazzita per lui e lui che è impazzito per la città attuandosela addosso rimanere sulla panchina del Napoli però penso anche questo penso che dopo averlo atteso tanto lo scudetto Spalletti abbia anche il diritto di rilassarsi di fermarsi di aspettare che arrivi una situazione che lo faccia stare un pochino più tranquillo ha rincorso questo scudetto per tantissimi anni non ha mai sbagliato una stagione né con l'Udinese né con la Roma né con l'Inter né con lo Zenith a Pietroburgo è arrivato a Napoli in una condizione di leggero scetticismo dopo che è arrivata la mancata qualificazione col Verona nell'ultima giornata ha preso questa squadra l'ha portata a lottare per il campionato nel primo anno gli faccia un po' quello che gli pare se decide di stare fermo e di godersi la sua tenuta meravigliosa in Toscana è giusto che lo faccia dopodiché la mia speranza da osservatore di calcio e da appassionato del suo gioco e di quello delle sue squadre è che Spalletti ci ripensi e continui ad allenare perché normalmente quando vedi una partita di calcio di una squadra allenata da Spalletti A la riconosci e B ti diverti Sì 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 è la scelta più giusta per me bisogna sempre riflettere un attimo quando vinci perché la vittoria è un qualcosa un sapore che ti può scomparire presto se parti male dopo due mesi sei a quattro punti dal primo posto ti inizierai a contestare magari invece la scelta migliore che può fare è un allenatore che ha inseguito questo scudetto per 25 anni e lo ha centrato nel posto dove peraltro non si vinceva dal 33 ha tutto il diritto di essere stanco e di essere come Forrest Gump alla fine sono un po' stanchino dopo una corsa di migliaia di chilometri di fermarsi di godersi la natura la sua bellissima tenuta che peraltro gli porta via tanta passione tanto amore e poi di guardarci un attimo in giro e vedere dove ripartire se ne ha voglia avrà 65 anni Spalletti è da 35 che gira ininterrottamente se non è il diritto di riposarsi lui non so chi e quindi Napoli lo ringrazierà e soprattutto da Napoli verrà sempre trattato come un signore come un re Napoli è sua non capitò a Ottavio Bianchi che finì male con l'ammutinamento in spogliatoio con una fama da allenatore burbero lo stesso Bigon rimase perché ha vinto il campionato ma di fatto la sua carriera ad alti livelli finì l'anno dopo con la fine di Maradona Spalletti che ha una carriera superiore a questi allenatori ha il diritto di dire le regole le ho detto io ho vinto è una carriera una carriera secondo me è grazie alla sua bravura che ha consentito al Napoli di passare dal Napoli dello scudetto di Maradona al Napoli dello scudetto di Spalletti che è una cosa ragazzi non solo ha vinto il campionato ma ha vinto il campionato con l'imprimatur con i gol di Osimè le giocare di Caraschieri la leggia di Robocca le sgroppate di Lorenzo quello che volete ma rimane è stata la mano di Spalletti direbbe Paolo Sorrentino assolutamente è un po' la legge di Rosberg ne parlavo oggi con un mio amico di Nico Rosberg che vince il mondiale sa che probabilmente è una cosa irripetibile nella sua carriera visto lo strapotere di Hamilton per una serie di situazioni contingenti e poi poi si ritira io credo che se Spalletti scegliesse di non allenare mai più non sbaglierebbe neanche tantissimo detto che io sono uno spallettiano dopo Trevi forse sono il fan numero due dell'Oceano Spalletti a questo punto sono una nazionale una bella nazionale a concludere c'è una nazionale e da c'è Spalletti è uno che vuole allenare secondo me è un allenatore da club perché è un allenatore da campo è un allenatore da tutti i giorni è un allenatore da 20 ore al giorno un allenatore della nazionale c'entra poco però se una volta che dovesse andare via Mancini perché non puntare sono un allenatore che migliora i giocatori li fa giocare bene sulla nazionale c'è su un'Italia che sta tirando fuori della gioventù interessante secondo me tra quelli che sono in nazionale tra quelli che sono in under 21 e quelli che sono in under 20 secondo me c'è margine per mettere mano a scrivere l'inno dietro le pettorine nazionale con queste giocate qui Luciano è uno che avrebbe una grande capacità retorica di unire l'Italia secondo me questo lo divertirebbe molto ecco forse non è proprio il suo nella vita quotidiana del CT però lo divertirebbe molto nell'Italia lui che è sempre stato uno che è un po' diviso adesso non è a Napoli però in generale in generale ha avuto un po' di divisioni ma non ti scorda com'era l'inizio a Napoli l'inizio anche lì il campionato c'era stato un po' di però si me lo vedo sarebbe bello sarebbe bello poi secondo voi quanto c'è effettivamente in lui la voglia di quanto c'è Ferin in lui la voglia di staccare e quanto può esserci magari anche un po' di rapporto anche pesantino con Aurelio e Laurenti ci sarà anche quello un po' è stato secondo me molto bravo in questa stagione non solo nelle operazioni di mercato ma anche nel fatto che non ha praticamente parlato mai ha ricominciato a parlare prima di Napoli Milan ho finito quel Napoli Milan ha finito male eh no nel senso è la UEFA è quello il debito non va fatto eccetera eccetera poi ha ricominciato una serie di dichiarazioni e da quel momento in poi ha frenato molto meno la propria lingua finendo con l'intervista da Fazio secondo me il Napoli è stato grandioso in questa stagione anche per le dichiarazioni molto centrate e molto pacate in questa stagione di Spalletti a differenza di altri allenatori che le hanno quasi sbagliate tutte chi più chi meno e perché De Laurenti non ha parlato mai e lo scudetto del Napoli anche per queste due cose rimane un gronchi rosa assolutamente miracoloso c'è stato silenzio c'è stata coesione non c'è stata autodistruzione che l'anno scorso nella partita di Empoli era esplosa con tutta la sua forza è difficile vincere il Napoli è molto difficile e Spalletti ha fatto a maggior ragione due volte un capolavoro vero 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 e allora la domanda che vi faccio di nuovo l'abbiamo fatta a inizio puntata però adesso bisogna ripartire da chi? da chi? i nomi sono almeno tre o quattro però allora abbiamo detto Luis Enrique non convinceva tanto Ricky a me piace molto però io non mi convince come dopo Spalletti non è che non mi convince Luis Enrique in generale tu cerchesti un allenatore che va nel solco di Spalletti se Ancelotti voglia dare al Madrid devi vedere Ancelotti di nuovo Ancelotti? vabbè non torna mai non torna mai però il genere è quello credo che alla fine i nomi che i due nomi più cari sono Italiano e Luis Enrique Italiano secondo me è difficile per qualunque allenatore arrivare a Napoli dopo che l'Italiano è l'Italiano ed è lui in quanto allenatore ambizioso certamente non rifiuterebbe però mi sembra che ci sono tanti allenatori di nome che a Napoli non ci verrebbero mai adesso magari ci vieni per vincere la prima volta ma arrivare dopo un'intero del genere è durissimo sai che Ale Rossonero 19 dice due cose in due mesi una più interessante dell'altra la prima è non l'avete detto che l'Inter ha avuto un calendario abbordabile in Champions l'abbiamo detto dai sorteggi l'Inter in questa stagione poi dopo lo vedremo con il Manchester City che è veramente l'esame di laurea ma non ha mai affrontato in nessuna competizione a scontri diretti una squadra meno forte dell'Inter ha affrontato il Parma ha affrontato l'Atalanta ha affrontato il Milan ha affrontato la Juve ha affrontato il Porto il Benfica e il Milan di nuovo e di nessuna di queste squadre è meno forte quindi fino adesso ha tecnicamente rispettato il pronostico diverso il caso se batte pure il Manchester City e allora cambia proprio la prospettiva l'altra cosa di cui parlare Rosso Nero 19 e non c'entra nulla ma potete parlare di Boston che potrebbe fare la storia questa notte ragazzi io sono sei già mentalizzato ero tentato di fare una sentenza sulla roba di Boston addirittura è successo sei volte nella storia dell'NBA che da 3 a 0 si va a 3 a 0 e tra l'altro l'ultima volta che è successo è finita 3 a 4 e cioè io Bostoniano o di Maiello Bostoniano Bostoniano perché è una sorta di gemellaggio con i miei Orlando Magic perché ora essendo Orlando Magic non posso essere mai ieri e per un terzo motivo che non vi posso dire in diretta tv il parquet più bello del mondo a Boston quello che ho fatto quella roba lì è poetica sì no ma soprattutto sarebbe una cosa troppo bella non vi posso spiegare perché ma sarebbe una cosa veramente troppo bella se vincesse Boston va bene però e viviamo per i ragazzi verdi questa notte alle 2.30 mi piacciono tantissimo queste parentesi lo sai che è anche un pazzesco per l'NBA però mi devi dire chi deve prendere in Napoli al posto dei Spalletti non Ancelotti non è una risposta non è una risposta non è una risposta Spalletti insiste vai a bussare a casa sua finché non cambi idea lo chiudi nella sala trofeo come Gattuso tipo Galliani sotto casa di destro cerchiamo un attaccante io penso che non sarà la prima scelta forse nemmeno la seconda o la terza ma secondo me Benitez non perché sia una scelta è un allenatore che chiaramente imparava la discendente però per una stagione del genere ci vuole un allenatore un italiano un Tiago Motta verrebbero subito messi a confronto a meno che non partano a razzo questo succederà a tutti però credo perciò ci vuole un allenatore con le spalle larghe che vada lì e parli in un certo modo comunichi in un certo modo sia anche furbo per diciamo assecondare un certo discorso secondo me ci vuole un allenatore navigato che conosca Napoli che conosca dell'Aurentis non ce ne sono molti quindi Luis Enrique anche lì è davvero un personaggio più da rifondazione che da gestione di un trionfo allora Allegri capito sarebbe buono se non fosse se non ci fosse quel pregresso allora voi dico una cosa sapete che non sono esattamente il fan numero uno di Allegri in Italia anche se me lo dipingono il mio pensiero viene dipinto peggio di quello che è in realtà ma la cosa è questa Allegri sarebbe esattamente quel profilo lì di cui parlavo io cioè il manutentore di quello che ha già fatto Spalletti che è già successo con Conte e il risultato sono stati altri cinque scuodetti vinti quindi io penso esattamente questo cioè penso che Allegri da quel punto di vista sarebbe perfetto perché non deve fare il gigantesco sforzo di far giocare la squadra a calcio la squadra già gioca a calcio di suo basterebbe mettere il famoso equilibrio il gabbione e tutte queste cose qui al servizio di una squadra che già va col pilota automatico io penso che Allegri da questo punto sia bravissimo cioè nella gestione nel mantenimento eccetera eccetera penso che sia bravissimo tant'è vero che Conte ha fatto tre campionati lui ha fatto cinque scuodetti e due finali di Champions League perché la squadra liberata da Conte da un certo punto di vista cioè quello psicologico si è data ad Allegri in maniera totale e quindi il fatto che lui fosse arrivato tra gli Allegri out del prima maniera non è stato importante è stato importante invece quello che ha fatto come lavoro ovviamente se dichiarazioni non si ricorderà nessuno rimarrà solo quando diciamo che Allegri non fa giocare la squadra di Cali clippate clippate anche questo se siete onesti flexate non l'hai detto eh cosa? flexate beh non è ma perché la flexata tra un po' arriverà quando attiveremo questa guarda è il momento è il momento giù i tablet giù i tablet giù i tablet giù i tablet voglio mettere come è stato di Whatsapp giù i tablet no no è giù i tablet mi ne levami ti tolgo no è la cosa più scenografica giù i tablet si possono anche tenere di nome di nome ok com'è qui funziona? si tu sei il tre io sono il tre esatto io sono il tre grande cheat io sono il tre è questo è questo andiamo è tre dai ok nove domande quanto posso fare i miei dati? dieci domande si parte con il quiz signori chiamate da casa tutti quelli che non sono collegati perché è il momento del quiz oggi lo voglio dichiarare prima del quiz ragazzi perdo otto a uno no è vero non credo non credo ho passato il weekend a fare tutto vediamo se adesso il weekend non posso ho partecipato marginalmente alla costruzione di questo quiz però è stato un contributo utilissimo prima domanda ragazzi sfida credo che abbiamo fatto in questo momento il record di ascoltatori della fontana di Trevi mi sa che siamo sopra i 5 mila quindi è giusto giusto per caricare ne vedo tanti sul tubo siamo al picco il picco della fontana di Trevi il picco della fontana di Trevi tra l'altro vogliamo dirlo a presto che il picco posso fare outing ho scelto Drongoski come portiere la fan sono bravo per farvi capire come lo si sono bella mossa 0-4 in pronostica 0-4 in pronostica comunque Henry dice Trevi toccati il naso se sei costretto a fare il quiz perfetto aspetta ecco dai 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 The Flipator dice tutti con le mani al cielo per aiutare Trevi come con Goku eh sì smontate tutto mi raccomando calma calma ci siamo siamo prontissimi siamo anche tantissimi prima domanda la Fiorentina ribalta la Roma in 3 minuti segna anche Luca Jovic di chi è stato l'assist Pastore Mandragora 1-0 Pastore colpo di testa sponda di Mandragora su me lo secco le poche che so non devi rispondere se no non viene equilibrato eh lo so non c'è stato un attimo l'unica partita che ho visto eh domanda secca ma che ne so qual è la domanda eh te clicchi quando prima che la fa domanda numero 2 mi sapete dire i tre risultati delle tre squadre che raffronteranno le italiane nelle finali europee già pastore già pastore Brentford City 1-0 Siviglia Real Madrid 1-2 Leicester West Ham 2-0 2-1 oh 1-0 Brentford 1-2 Real Madrid 2-1 Leicester West Ham vabbè mamma mia qui vabbè questa è proprio la banda Bassotti si ha detto 2-0 non è che ha detto qualcuno lo scippo lo scippo di via Morimondo è scivolato su una buccia di banana terza domanda attenzione mancano gli otto attenzione alla terza domanda perché potrebbe essere favorevole a Trevi il numero di maglia di Magnani vai Trevi 23 2-1 e c'è il gran gol e c'è il gran gol che giocata però potevi dirvela questa con Sales va bene poi vediamo Magnani ho detto signori Magnani grande giocatore grande giocatore grande giocatore ho capito Nando ma va benissimo perché adesso c'è 14 maggio 2006 Milan-Roma la stagione 2005-2006 vi ricordate il risultato pastore 2-1 Milan secondo me no si cacà rigore Mexes amoroso rigore pazzesco ragazzi 2-1 tra l'altro avevo anche previsto non siamo fatti domande volevo dare un'opzione al buon Trevi che se azzecca l'arbitro annulla la risposta di Pastor beh la giocata è ingiusta però potrebbe essere potrebbe essere veramente scettola qualunque dai vediamo l'arbitro però questo non ha nulla chiaramente il punto a Pastor no qual è l'arbitro qual è l'arbitro si sente una parte dei più forti assolutamente no però nella vita mai dai però chi è l'arbitro di quel Milan-Roma così ti faccio flexare sei un'arbitro importante perché comunque c'era la lotta per lo scudetto ma di chi nel Milan era a pochi punti della Juve era l'ultima giornata ma poteva ancora di calciopoli quindi c'è qualcuno che poi non c'era più quindi è pre quindi è pre quindi potrebbe essere un pellegrino no De Marco penso che stanno dicendo De Santis che ti avrei fatto tribolare perché hai detto De vabbè 2 a 2 2 a 2 ragazzi domanda numero 5 2 a 2 mai così aperto il quiz ma la tabellina non siamo sentiti però ragazzi il Bayern perché i numeri di maglia il Bayern vince e porta a casa una insperata Bundesliga del Colonia Ljubicic capito però adesso qua sei di bravo dicevi chi fa l'assist per il gol se ne svegli ma creano l'assist per il rigore il posto è l'arbitro De Marco anche qui 3 a 2 domanda numero 6 pastor musetto davanti Lorenzo se è intenditore di pica detto questo domanda numero 6 oggi Pato è tornato al San Paolo oltre al Milan in quali squadre europee ha giocato pastore Chelsea esatto e basta nooo sbaglia pastore questa domanda l'ho fatta io l'ha fatta Nandone Siani perché c'è un'altra squadra occasione per te calmi trevi c'è un'altra squadra non ne ha idea non è che non sarà ricorda rifletta ti do un po' di tempo io oggi ho visto la carriera ha giocato mi conforta questa cosa perché l'avevo totalmente rimosso oddio ne tirerei uno a caso ma non so pensateci un attimo do altri 10 secondi 10 secondi per trevi ok vai trevi Paris Saint Germain no West Ham no Villarreal proprio il Villarreal esatto pensa che se tu mi dici che è successa questa cosa e mi vedevi una foto io comunque non ci credo ricordo un gol addirittura in Europa e la recupero al voto la recupero al voto perché questa cosa mi ha fatto impazzire oggi cercavo mi ricordavo la carriera di Pato e avevo totalmente rimosso che avesse giocato in Villarreal eccolo qua ci ha giocato nel 2016 2017 14 presenze 2 gol con il Villarreal vabbè ma tu te lo ricordavi? adesso avrei visto la foto ti ricordi? non ho visto la foto aspetta e infatti segna un gol anche in Champions League nel playoff di Champions League contro il Monaco io ricordavo bene quel gol infatti l'unico ricordo che ho di Pato vi ho trovato un bug madonna veramente ma che fantabug me l'hai detto me lo so ricordato niente ti dico oggi ho visto la pagina con i video e ho detto ho giocato in Villarreal ho avuto la vostra stessa reazione ma che sta matta ma che sta matta settima domanda settima domanda eccola qua eccola qua arriva quanti e quali sono gli XRiA che giocano nel Siviglia? Pastore Ocampos ok Papu Gomez ok Suso si la mela si e basta no ne manca uno ne manca uno perché hai detto tutti quelli che mi ricordavo pure io altra domanda che ho fatto io e altro giocatore che ho scoperto che gioca al Siviglia ignoto però è forte vai sì 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 vai Alex Teller giusto sì è arrivato anche anche il tre a tre giusto giusto qui mi vanto proprio perché ho detto prossima domanda prossima domanda prossima domanda mancano tre mancano ancora tre mamma mia ragazzi che tensione ha segnato 30 gol in campionato ma non è diventato capo Eric Cade 4 a 3 per Pastor 4 a 3 per Pastor però c'è ancora un'opportunità per pareggiare poi andrà la domanda decisiva prima convocazione in nazionale per Baschirotto qual è il suo numero a Lecce domanda che ho fatto io sei giusto eccola lì eccola lì vamo vamo non sapevo c'erano due domande sul numero di Maia ho perso il golden goal ragazzi però così abbiamo equilibrato il tutto io ho anche cambiato l'ordine delle domande allora signori un attimo presentiamo bene questa cosa perché vale non me la sento credo per la prima volta la storia da Fontana di Trevi arriviamo a giocarci la con una domanda l'ha vinto l'ha vinto però capito aveva vinto prima aveva vinto prima arriviamo all'ultima domanda che può valere la vittoria del ring quindi da casa collegate vi chiamate tutti signori stiamo per vivere il momento storico il picco il picco il picco ultima domanda finisce il ring ultima domanda non sono psicologicamente pronto però pronti vai un grande esperto di pallone può essere tedesco o del sud della Toscana cavolo che domanda è te l'ho detto che non ero pronto guarda la domanda la rileggiamo un grande esperto di pallone questo è matto può essere tedesco attenzione pastore un errore non sono un grande esperto di pallone non ci credo trevisari che vince il quiz con l'avversario che la risposta è la domanda incredibile ma che domanda è stata ma che domanda è stata incredibile è un film di Nolan è un film di Nolan è un film di Nolan si fa ti anticipa ma non è vero non è vero ha la faccia dell'imitazione di Sian non è vero non è vero il nostro fate lo stesso abbiamo fatto la storia possiamo dire domanda geniale possiamo dire abbiamo fatto la storia abbiamo fatto la storia devo insultare poi l'ho capita di data geniale tra l'altro il filo rosso perché se vi ricordate trevisari trevisani l'altra volta e nella prima delle prime puntate c'era Trevi come si dice la barba ma è il motivo ma è il motivo pericolo indovinata ho fatto quel ragionamento l'altra volta la metà puntata di Trevi quando ho detto ho detto pastore tedesco boom lo conosci lo conosci manco ho capito la cosa del sud della Toscana non ho capito niente pastore mare in mano può essere tedesco o mare in mano ancora a fatica e comunque ero sul pastore tedesco e sul fatto della domanda dell'altra volta è stato incredibile e poi c'era anche quella di Siani comunque in mezzo a voi si 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 mi ricordo il premio per la cosa del Siviglia ho vinto per il premio dell'attesa del Siviglia l'attendismo l'attendismo l'abbiamo detto io corto muso all'allegri intanto Friario ci dice pastore vicino all'esonero quindi siamo a questo livello rimonta contro rimonta e contro contro rimonta i Trevisani mettimi commenti no è pazzesco è pazzesco ho vinto ha vinto Riccardo Trevisani ma non farà come la risposta era pastore incredibile incredibile mi spiace Giuse vuoi flexare con una giornata a casa fate voi dai flexiamo una giornata a caso giusto per per dare a Cesare quel che è di Cesare ti becco vediamo dai ci facciamo dire dalla chat 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 ditemi una giornata di serie A dal 94 dal 94 in poi dodicesima 2004 2005 si è una domanda così va bene allora arriva aspetta serie A storia di complimenti in chat anche più importante di mia madre per questa cosa della vittoria del dodicesima ragazzi questa è la storia allora aspetta la serie A 2005 12 salutiamo la signora come si chiama la signora la signora Lidia la signora Lidia ha assistito suo figlio che le ha regalato tante soddisfazioni nella sua vita ha commentato finali scudetti e invece e invece allora io ho la dodicesima giornata ciao mamma di Trevi la signora ci fa volare allora dodicesima giornata serie A 2004 2005 pronti stiamo sempre in quegli anni madonna mia non ci sei no è difficile io ci sono o tra il 97 e il 2003 o più recente dodicesima ho messo in mezzo al campionato dodicesima fammi pensare un attimo poi signora Lidia che salutiamo lì c'è Alessandro Vado dovrebbe essere Parma Milan o no Chievo Milan no vabbè dai un po' in difficoltà vediamo che Milan-Siena 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 2-1 certo Goldi posso dire il marcatore del Siena? sì Milan ha il marcatore ha il marcatore del Siena? Vergasso no Argilli bra scusa Argilli 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 la classica situazione che Goldi è che pareggia e poi fa solo il gigante con i piedi d'Argilli l'orsetto dai piedi di Argilli ho vinto il quiz e già mi risentro piccolissimo Argilli questa giornata si gioca il quando comincia così ho paura no 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 è una domenica ok si è giusto se vuoi ti dico la data se no no ma siamo a fine metà novembre metà novembre proprio metà novembre esatto allora e Juventus schievo no come no no non è Juventus schievo è Juventus schievo eh no ti dico di no oddio sto confondendo questa giornata allora Milan Siena è corretta la Juventus gioca fuori aspetta ok come vuoi come vuoi non c'è freddo con calma le dico tutte va bene però io che era certo di Juventus schievo eh no no allora Milan Siena doveva uno domenica domenica inutile esatto gol di Argili ci ha fatto ah sì è quella prima è quella su Twitter sono impazziti nel frattempo the streak is over the streak is over è quella prima Juventus schievo forse sì penso di sì penso di sì dimmi la partita di un'altra partita ok ti dico un'altra partita no quella che vuoi dai ti dico Lecce e Juve 0 a 1 gol di Lecce e Juve 0 a 1 Ibrahimovic no del Piero eh infatti sotto la pioggia un po' allagato ah ok certo certo sì perché vediamo se ti arrivano le altre giusto giusto l'Inter in trasferta bravo dove giocherà in trasferta l'Inter questa partita giornata che ti ha messo giornata che non ricordo giornata che non ricordo giornata che non ricordo l'Inter in trasferta ne facciamo una una bella una bella giornata ok Cagliari-Inter 3 a 3 ok ti ricordi i gol allora Langella doppietta no un gol esposito doppietta no il primo gol segnava il rigore di Zola Zola per l'Inter Martins bravo Adriano Stankovic Stankovic e ancora Martins ok dai partita poi Fiorentina-Livorno 2 a 1 3 a 2 no non lo so 1 a 1 1 a 1 Riganò-Lucarelli giusto vero vero l'altro quell'anno prima Lazio-Bologna Lazio-Bologna sei in difficoltà questa giornata la Roma gioca con la Regina Regina-Roma 1 a 0 bravo gol di gol di Bonazzone bravo Lazio-Bologna 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 succede di tutto 3 a 1 no 2 a 1 2 a 1 espulsioni vera nervosa espulso Tare espulso Tare perché mi ricordo che si è espulso Tare bravo Tare del Bologna Tare del Bologna esatto forse anche fa gol bravo bravo perché mi ricordo la Lazio chi fa gol Simone Inzaghi no 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 la Lazio segnano due giocatori che segnavano Bicanio sì e Bicanio e Rocchi bravo poi poi Parma-Chievo ma Parma-Chievo 0 a 0 no non ne ho idea 2 a 2 2 a 2 non me lo ricordavo Palermo-Samp Palermo-Samp 0 a 2 no quello l'anno dopo 2 a 0 lo sicorini no dai sei in difficoltà con questo Tony Tony sì Tony è è uno bello Barzagli no un bel nome nel senso un nome croccante croccante semplice no no un giocatore dai sottovalutato secondo me Bresciano no no di Michele un giocatore da pantacalcio no Abel Hernani no centrocampista con la B la pista con la B Bresciano no BR eh Bresciano eh no Brienza Brienza Udinese Messina Udinese Messina 1 a 1 1 a 1 bravo 1 a 1 Parisi no di Napoli no Muslimovic no Iaquinta no Amoruso di Michele vabbè ragazzi torno indietro dai poi indietro dai poi indietro facciamo tu 97-90 dai 97-98 ditemi 97-98 amici dai serie A il mio amico è scritto Brienza siete scarsi vabbè serie A 97-98 che giornata vi prendo la tredicesima dai la tredicesima ce l'hai già si 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 dai è già arrivata se dice le partite secondo me su 97-98 posso anche circolare si 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 allora parto Milan-Bologna 0-0 aspetta si no si 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 ho preso la giornata ho preso la giornata sbagliata aspetta tredicesima giornata seriana tutte queste giornate a metà famo quello l'inizio alla fine è difficile tredicesima già novembre già tutta quella cosa si sono tutte uguali gli pomeriggi sono tutti uguali esatto sto cercando anche con i marcatori un attimo non è facile Milan-Bologna 0-0 quindi va bene allora la tredicesima giornata vai queste andiamo vai queste andiamo esatto sono stremato vai Milan-Bologna 0-0 giusto Udinese Inter 1-0 giusto Biroff giusto Juventus Empoli 5-2 giusto hai anche i marcatori Triplettai Del Piero Triplettai Del Piero Triplettai Del Piero Fonseca no Inzaghi Quinto gol io che lo fa Out Autogol Baldini no Bianconi no Fusco no non so ex Roma ex Roma no Dal Moro no no ex Roma Cappellini no tira un rigore ah chi menta no vabbè Tonetto ah dopo ah tira un rigore dopo no pensavo gol dell'Empoli aspetta Esposito sì e Floriancic oh lo stesso mi straccio aveva scritto questo è Gesù Floriancic Floriancic poi 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 la Lazio sì che fa la Lazio la Lazio con chi gioca Lazio-Vicenza dai ah dici così Lazio-Vicenza scusa Lazio-Vicenza vince la Lazio sì 3-0 no 4-0 eh Casiraghi eh devo aspetta che apro Lazio-Vicenza Signori no non c'è più signori non c'è più non c'è più vado via la Samp già sì secondo me sì ok Lazio-Vicenza 4-0 calcio-Vicenza calcio-seriea.net ok e li trovi tutti insieme ok vai vai Casiraghi sì ehm Boxic sì Fuser sì è l'ultimo fammi volare ti faccio volare fammi volare l'ultimo divaglio no è una roba difficile eh sì difficile il quarto Ciamone no Gottardi no Fisch più difficile Gottardi Marc-Andre Fisch no il quarto è Centrocampista Marcolin no però finisce uguale Venturina forse fa il 4-0 addirittura sì esatto lo ricordo giusto poi la Roma ecco calma la Roma gioca in trasferta tredicesima abbiamo detto cercando ovvio allora dovrebbe essere Udinese Roma no quella dopo ok quella 2 tredicesima giornata la Roma quindi quella prima Udinese Roma la Roma Sud o Nord aspettate aspettate la Roma eh no è perché sto facendo fatica a trovare il sito giusto eh sì ma non va bene allora vai la Roma la Roma gioca al Nord la Roma gioca al Nord non a Udin no non a Udin la Roma gioca che giornate difficili che scegliete la Roma gioca a se dici la partita dico 100% risultate marcatori Brescia giusto 1 a 1 giusto Ubner Paolo Sergio Trevi non sono tanto sicuro sul sui marcatori aspetta calcio eh sto andando ma non non me l'apre ti l'avevo aperto ti l'avevo aperto sono abbastanza sicuro di Paolo Sergio non tanto di Ubner ma Ubner Paolo Sergio allora ci fidiamo voi dite Ubner Paolo Sergio ok ecco sì tredicesima Fiorentina Adalanta 5 a 0 Fiorentina Adalanta 5 a 0 devo tornare ancora grande spettacolo Fiorentina Adalanta 5 a 0 Fiorentina Adalanta 5 a 0 arriva 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 Fiorentina Adalanta 5 a 0 tu dici Fiorentina Adalanta 5 a 0 ti dico giusto i marcatori ce li hai sì c'è nel senso ce li hai tu io ce li ho ho Battistuta giusto Oliveira giusto Robbiati giusto Serena giusto dai Michele Serena non vale vai l'ultimo tutti diversi sono pure difficile sì è lo stesso dell'altra volta dai Fiorentina sì l'altra volta che l'altra volta non ti veniva e io ti ho detto guarda questo è un segno Padalino vai ti mancano poche partite il Bari il Bari che fa il Bari che fa la tredicesima giornata del 97-98 cosa vuoi che faccia il Bari cosa vuoi che fa perde col su Tirol 1 a 0 col Tirol no non proprio bensì cosa fa cosa mi fa che giornata era questa la tredicesima Juventus se il Bari gioca in transfer in casa se non te la ricordi Piacenza giusto se non te la ricordi 0 a 0 giusto ti mancano due partite era facile due partite il Napoli non l'abbiamo detto il Napoli il Napoli gioca in trasferta esatto il Napoli gioca in trasferta a adesso voliamo allora le partite che mancano sono quella lì manca l'Empoli ma non è il Napoli no no l'Empoli l'ha detto l'Empoli sì cosa manca manca il manca il Vicenza no l'abbiamo detto in Vicenza sì allora ti manca abbiamo detto quello l'Udinese ti manca il Napoli e te ne manca un altro l'Empoli 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 ma non è il Napoli no no quindi Lecce e Napoli separate manca il Parma e Parma no ma non è Parma manca il Parma però sì con Lecce però esatto Parma-Lecce Parma-Lecce e il Napoli che gioca contro il Sampdoria no sì ah Sampdoria Napoli 6 a 3 6 a 3 ma che vuol dire questa cosa 6 a 3 calmi calmi adesso perché ho bisogno dei marcatori il più classico del 6 a 3 occhio che ho bisogno dei marcatori e qui volo perché sono un paio di nomi veramente doppietta di Bellucci nel Napoli doppietta di Bellucci un solo gol di Bellucci Montella ne fa almeno due Montella ne fa almeno due esatto fa gol Bogossiano eh beh classico del Lex quanti autogol ci sono in questa partita nessuno quindi tre Montella una Bogossiana Klisman Sampdoria dai poi c'è lui che ci ha fatto già volare una volta Scusate Napoli Sampdoria Napoli Sampdoria Napoli a 6 a 3 per la Samp per la Samp per la Samp legle nel Napoli dopo Bellucci fanno gol Bogossiano l'hai detto Sampdoria ah sì scusami 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 nel Napoli due marcatori oltre a Bellucci esatto Alto Mare no no Protti sì ok l'ultimo ti manca difficile difficile per un giocatore che ha fatto una buona carriera Gonzales ha tifato per lui ha tifato per lui forse un solo anno Gonzales ha tifato per un ex giocatore in che stagione siamo precisami 97-98 è difficile è difficile credo anche una presenza in nazionale forse c'è un tracampista sì uso no 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 c'è un tracampista del Napoli del Napoli qualche presenza nazionale che ha giocato anche nella Fiorentina e stiamo parlando italiano stiamo parlando italiano ma stiamo parlando evidentemente di 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 gioco difficile di 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 dai 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 è stato in nazionale confermo è stato in nazionale confermo nazionale se lo dice mangio il mio cane è difficile questo nome perché non te lo ricordi in questa squadra qui nel Napoli non me lo ricordo in questa squadra che ne giro tanti se avessimo detto un'altra squadra che era lei la Fiorentina però che non è la Fiorentina esatto allora addirittura un giramondo fosse stato un udinese per esempio fosse stato un udinese ti potresti ricordare ahhh maledizione si no rossiccio si grazie grazie classico pro di rossiccio buonanotte a tutti l'ultimo l'ultimo parmalecce parmalecce dimmelo così a passant parmalecce 2 a 0 quasi 3 a 0 2 a 1 2 a 1 ti arrivano i marcatori chiesa chiesa ho preso il braccio il cane non crespo chi è che sta no ragazzi fate gesti hai il tuo amico no 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 posa posa la bestia chiesa non crespo ma Dino Badno bravo bravo in ultio le lecce chi segna è un giocatore non autogol no 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 nel lecce il classico cevantone difficile sì è difficile sì non troppo no no è difficile difficile perché diciamo ha un cognome comunissimo ah Maurizio Ross sì buonanotte a tutti salutiamo tutti ragazzi grazie mille fate plagiare da queste cose ma in realtà il quiz l'ho vinto il quiz l'ha vinto Trevi Andrea Maurizio Rossi l'hai l'hai spangata con Clisman secondo me no c'è Florianci Florianci Argili Argili mister Argili Argili l'ha spangata Trevi grazie mille che succede il tipo del lecce faccio il cabino di compostella camminando sulle gengive ragazzi io sono scioccato da quello che è successo stasera mamma ragazzi quante quante emozioni stasera buonanotte a tutti terz'ultima puntata della fontana di Trevi buonanotte a tutti grazie Pastor grazie Trevi grazie Andri ci vediamo noi di prossimo ciao a tutti ciao 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 ciao